40 anni fa in questa piazza Alia già sparò a Giovanni Paolo II, che per fortuna sopravvisse. Un attentato pieno di misteri ancora oggi e un pontificato scomodo, difficile, quello di Papa Voitigua, con un altro mistero che si porta dietro da tantissimi anni, quello della scomparsa di Emanuela Orlandi, tra pochissimi minuti su Atlantide. ...d'estate, alla fine degli anni Ottanta, quattro berline scure si fermano all'ingresso di Piazza San Pietro. Dalla prima scende l'ammiraglio Fulvio Martini, che è il capo del sismi, il servizio segreto militare. Da un'altra Berlina sbuca fuori Vladimir Kryuchkov, che in quel momento è il capo del KGB, il servizio segreto sovietico. Il muro di Berlino è appena caduto e anche l'impero sovietico sta per crollare. Il mondo sta voltando pagina e anche l'Italia sta uscendo da una stagione feroce, fatta di piombo e di sangue, di terrorismo e di stragi. Moro, Ustica, Bologna. Kryuchkov è venuto a Roma per una visita inedita e molto, molto riservata, perché è la prima di un capo del KGB. Martini lo porta a cena, mangiano, discutono, bevono del buon vino, poi a un certo punto il capo del sismi butta lì un'idea. Perché non andiamo a fare due passi in Piazza San Pietro? La temperatura è meravigliosa, perfetta, da Dio. E Kryuchkov, che è abituato a guardare soltanto le guglie cupe del Cremlino, accetta. Quella sera le luci dell'appartamento di Giovanni Paolo II al terzo piano del Palazzo Apostolico, lassù in cima, sono ancora accese, questo almeno mi raccontò Martini, che prende Kryuchkov sotto braccio e lo porta verso la piazza, lasciando le due scorte armate a una distanza discreta. Poi, quando sono al centro di Piazza San Pietro, Martini indica la finestra del Papa, guarda dritto negli occhi Kryuchkov e gli domanda, ora puoi dirmelo, siete stati voi? Kryuchkov rimane spiazzato, poi sorride, ma no, no, Martini non si arrende, insiste, glielo domanda un'altra volta. No, sul mio onore, risponde Kryuchkov. Poi ritornano alle auto e il corteo scompare, inghiottito, dalla notte romana. Poteva essere la scena finale di uno di quei film che ti lasciano in bocca il sapore del dubbio, ma in effetti, 40 anni dopo, quel dubbio rimane lì, insieme a tanti altri dubbi e misteri che avvolgono quell'evento che mercoledì 13 maggio 1981 sconvolse la Chiesa e il mondo. L'attentato a Giovanni Paolo II. Sono le 17 e 17 minuti, Carol Voitiva sta per compiere il secondo giro della piazza a bordo della Papamobile scoperta. La piazza è gremita di fedeli per l'udienza generale. Papa Giovanni Paolo II benedice, stringe molte mani, saluta, a un certo punto si sporge, prende una bambina in braccio e poi la restituisce a sua madre. Un attimo dopo partono due spari dalla folla, due pallottole raggiungono il Papa all'addome che si accascia tra le braccia del suo segretario Stanislao Djivic. La gente grida, ma nessuno capisce bene che cosa sia successo, finché la tonaca bianca si inzuppa di sangue e a quel punto comincia una corsa disperata per salvargli la vita. L'autista è stato fenomenale, sei minuti dall'interno del Vaticano al Gemelli, sei minuti alle 5 e mezzo, sei di pomeriggio facendo medaglie d'oro e tutto quanto, se non è un miracolo questo. A sparare è stato un giovane uomo appostato tra i fedeli, ha sollevato la sua Browning calibro 9 sopra le teste della gente senza che nessuno se ne sia accorto e dopo aver sparato cerca di fuggire, ma è una fuga molto breve, perché indietreggiando in ciampa cade a terra, la pistola gli sfugge dalle mani e una giovane missionaria, Letizia Giudici, che ha assistito alla scena, gli salta addosso e lo blocca. Poi intervengono gli agenti della Polizia di Stato, i gendarmi lo bloccano e lo portano via. Lui non oppone resistenza. Si chiama Mehmet Ali Akja, è un cittadino turco. Lui si faceva strada perché la folla, man mano che lui avanzava, la folla si apriva così perché aveva paura. Io invece ho avuto un attimo di paura, l'ho preso e cercavo di portarlo dentro il portone di bronzo per poterlo poi interrogare. Karol Josef Wojtyla, arcivescovo di Cracovia, aveva fatto la sua apparizione in questa piazza per la prima volta alle 7 e un quarto di sera del 16 ottobre 1978, quando il decano del conclave Pericle Felici ne aveva annunciato l'elezione al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II. E quel Voitigua aveva gelato la piazza perché sembrava il nome di un cardinale africano. Annunzio vovis gaudium magnum, abemus papam, dominum carolum, sante romane ecclesiae, cardinalem Voitigua. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Successore di Albino Luciani che aveva guidato la chiesa per soli 33 giorni morendo all'improvviso in circostanze che fecero e fanno ancora discutere, Voitigua era il primo papa straniero dopo 455 anni. Un papa giovane e pressoché sconosciuto, ma soprattutto il primo papa dell'est in piena guerra fredda. Viva il papa! Il papa è l'Italiano! Il papa è l'Italiano! Il papa è l'Italiano! Il papa è l'Italiano! Volemo sapere. E ora fermiamo per qualche minuto, ma solo per qualche minuto, la ricostruzione dell'attentato di quel maggio del 13 maggio 1981 e anche tutte le piste che sono state battute per cercare di arrivare ai mandanti, per capire meglio su quale terreno religioso politico e con quali ostacoli si muoveva Karol Wojtyla. Ezio Mauro, editorialista di Repubblica di cui è stato anche direttore. Buonasera Ezio. Buonasera. Dunque, vedi, qui abbiamo la vignetta di Biani, Intrighi e Matasse, a sinistra Brezhnev e qui ovviamente c'è Karol Wojtyla. Perché Brezhnev? Perché quando lui viene eletto, l'Unione Sovietica è guidata, diciamo, da quell'uomo forte che era Leonid Brezhnev e a Wojtyla affibbiano subito il soprannome di Papa della Guerra Fredda. È così? È un Papa che nasce dentro la Guerra Fredda e in qualche modo sovverte il clima della Guerra Fredda. È un incidente geopolitico, potremmo dire. Per chi crede è un segno della provvidenza, per chi non crede è un segno della provvidenza della storia. Nel senso che il ruolo che Papa Wojtyla ha avuto sulle due Europe è un ruolo decisivo. Ma basta pensare allo shock geografico e storico. Un polacco, suddito dell'impero sovietico, viene eletto sovrano universale della Chiesa Cattolica. Qualcosa che era inconcepibile, inimmaginabile. Ed è diventato indipendentemente dalle sue azioni, si potrebbe dire, e poi certamente per il suo pensiero, per la teorizzazione che faceva del ruolo della Chiesa, del problema della libertà e per la lotta al comunismo che ha sempre fatto. Ma prima ancora, la sua sola presenza, la sua sola scesa al trono di Pietro, è diventato un elemento di sovversione. Certo. Senti, la progressione, diciamo, dopo Brezhnev è Andropov, Cernienko, Gorbachev. E quello è un momento in cui, diciamo, l'Unione Sovietica, nella prima parte dell'era Gorbachev, che tu conosci molto bene, in effetti Wojtyla era considerato davvero una spina nel fianco dell'impero sovietico. Perché comunque lui aveva questa idea che il blocco comunista rispetto alle libertà della Chiesa, come dicevi prima, fosse totalmente intollerante. Ma improvvisamente poi arriva un segretario del CUS che è totalmente diverso, anche lui. Anche lui è un incidente geopolitico. Beh, certo. Lui diventa segretario con la garanzia di Gromico, che dice allo Stato Maggiore del Partito, al Comitato Centrale... Che era Ministro degli Esteri all'epoca. Ministro degli Esteri, uno dei padri nobili del Partito. E dice, è giovane, ma garantisco che ha i denti di ferro. E che quindi, in qualche modo, è dentro l'orizzonte ideologico di sicurezza del Partito. E invece succede qualcosa di particolare. Gorbaciov ha bisogno di scongelare il gigante sovietico, perché quel gigante ha i piedi d'ergilla. Gorbaciov cerca il dialogo con l'Occidente, vuole essere creduto. Voitiva certamente rappresenta un punto di riferimento con cui devono decidere che politica fare. Reagan ha detto davanti al muro di Berlino, mister Gorbaciov, apra questa porta, dal punto di vista politico. Ma il Papa fa invece una predicazione e guarda quel muro dal punto di vista spirituale. Dal punto di vista della libertà spirituale. E c'è un momento che sblocca questa situazione, è del primo incontro tra Voitiva e Gorbaciov. Adesso ci arriviamo però. No, perché che cosa accade? Accade per Gorbaciov che c'è l'incidente di Chernobyl, che comunque lo costringe a un certo punto a quella trasparenza che lui voleva adottare in tutto il sistema. Per il Papa c'è l'attentato. E adesso, prima di arrivare a questo incontro che è storico assolutamente, ti vorrei far sentire Marco Ansaldo cosa dice a proposito, diciamo, dei rischi e del perimetro anche politico nel quale si muoveva Karol Voitiva. Sentiamo questo contributo di Marco Ansaldo che è stato vaticanista e corrispondente dalla Turchia per Repubblica. Si è sempre pensato, soprattutto nei primi anni del pontificato di Karol Voitiva, che il pontefice polacco potesse dare fastidio soprattutto al blocco del patto di Varsavia. Naturalmente dobbiamo ricordare che allora il mondo era diviso in due parti contrapposte e distinte. Forse di questo l'evidenza lo ha mostrato anche l'attentato del 1981, quindi che arriva a quattro anni dopo l'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II. E di fatti molta fortuna ha avuto la pista bulgara, che però non ha mai avuto dei riscontri e delle prove effettive a livello processuale. Gli inquirenti, anche al di fuori delle indagini ufficiali che sono state fatte, ultimamente vanno molto, negli ultimi anni, sulla pista turca. E in effetti io credo che la pista turca, le carte turche, i colleghi giornalisti, i osservatori, i diplomatici turchi, sono quelli che forse sanno qualche cosa di più. Bisogna anche osservare cronologicamente come sono avvenuti i fatti. Il Papa va in Turchia in visita apostolica nel 1979 alla fine di novembre e quattro giorni prima, soltanto quattro giorni prima, Mehmet Ali Aja esce dal carcere di massima discurezza di Kartal Maltepe a Istanbul, manda una lettera al giornale Migliette in cui dice, annuncia, ucciderò il capo dei cristiani. Questa cosa in una Turchia blindata nel 1979 non accade, però Aja inizia a girare in tondo per 12 paesi e 3 continenti diversi, arriva in Italia un anno e mezzo dopo a Piazza San Pietro e lì colpisce Giovanni Paolo II. Non lo uccide, lo ferisce solamente, ma in ogni caso porta a termine il suo mandato. Molti guardano oggi ai lupi grigi come non soltanto gli esecutori, ma gli stessi mandanti. I lupi grigi erano alleati del governo militare turco che compie il golpe del 1980. A quel punto i militari espellono i lupi grigi dalla Turchia, loro si riversano in Francia, in Austria, in Germania. Sono fortemente anti-occidentali, anti-europei, anti-cristiani, pan-turchi e pensano di fare la loro vendetta rivolgendosi a questo punto contro chi pensavano li avessero traditi. C'è una lista lunga di obiettivi, tra cui Margaret Thatcher, il presidente del Parlamento europeo Simon Weil, il segretario generale dell'ONU Kurt Waldheim, il presidente sovietico Leonid Brezhnev e infine il papa polacco Karol Voltigua. Mehmet Aliagia e i suoi sodali si concentrano soprattutto sull'obiettivo del papa polacco. Ezio Mauro, due date. 9 novembre 1989, crolla il muro di Berlino. 1 dicembre 1989, 21 giorni dopo, Gorbaciov arriva in Vaticano. Sono 21 giorni e insomma cambia il mondo in questi 21 giorni. Non c'è dubbio, quell'incontro Gorbaciov è accompagnato dalla moglie Raissa. Quell'incontro è particolarissimo. Ho chiesto una volta a Gorbaciov se può parlare del suo incontro col papa e lui mi ha risposto quanto tempo hai. Prima che io potessi rispondere mi ha detto no perché io posso parlarne fino a domani mattina. Quando siamo andati con Paolo Mieli, eravamo alla stampa, a prendere gli articoli che Gorbaciov scriveva per la stampa e il New York Times distribuiva in tutto il mondo, Gorbaciov ci ha consegnato un articolo sul papa che gli avevamo commissionato per così dire e in quell'articolo c'è un passaggio importantissimo. Lui dice Senza questo papa polacco e slavo nulla di quello che è accaduto nei paesi dell'est sarebbe stato possibile. Detto dal segretario generale del PQS. Eh sì, il mondo capovolto. Il mondo capovolto. Gli ho chiesto può fare una dedica per il papa? Io vedo di fargli arrivare l'articolo e lui ha scritto, dopo averlo firmato, ha scritto O Popem Rinscom per il papa di Roma. Ho chiesto al papa di potergli portare questo articolo e gli abbiamo, con Mieli gli abbiamo messo davanti il testo in cirillico dell'articolo di Gorbaciov che non era ancora uscito. Che lui sapeva leggere perfettamente. Sì, e io gli ho letto in italiano l'inizio dell'articolo. Quando sono arrivato a quel passaggio il papa ha posato l'articolo e ha detto ma senza questo segretario generale ugualmente nulla di quello che è accaduto sarebbe stato possibile. Quindi si sono dati un riconoscimento reciproco. Assolutamente. Probabilmente questo riconoscimento era già venuto fuori nell'ora di colloquio assolutamente privato che avevano avuto prima diciamo dell'incontro ufficiale in Vaticano perché un'ora avevano parlato da soli. Sì, Gorbaciov parla anche di questo nell'articolo. Dice in quell'incontro è scattato qualcosa di magnetico. Quindi evidentemente i due uomini si sono presi e si sono riconosciuti un ruolo nel cambiamento epocale della storia d'Europa. Certamente. Io adesso ti faccio ascoltare un altro contributo di Fabio Zavattaro che è uno storico vaticanista della RAI che cerca di spiegarci anche come Voitigua ha cambiato diciamo l'approccio di un pontefice nei confronti del mondo, della gente in fin dei conti Voitigua è stato il primo che ha accettato le interviste al volo dei giornalisti ha proprio dato questa sensazione di energia dinamica da giovane uomo che era quando è stato eletto. Sentiamo che cosa ha cambiato rispetto a un Papa raffinatissimo come Paolo VI molto sobrio e un altro come Albino Luciani che però per soli 33 giorni ha governato la Chiesa. Sentiamo Zavattaro. Eletto Papa a 58 anni il pontificato di Giovanni Paolo II ha durato più di 5 lustri come dire almeno 8 legislature italiane 5 presidenti degli Stati Uniti. Ha attraversato la storia del XX secolo lasciando una profonda eredità religiosa è stato anche testimone e artefici della caduta dei regimi dell'Est. Il racconto del suo pontificato però non può che iniziare da quel non abbiate paura pronuncia il giorno dell'inizio della sua missione con l'invito ad aprire le porte a Cristo i confini degli stati dei sistemi economici come quelli politici. È il primo Papa che oltrepassa la cortina di ferro 1979. Viaggio nella Polonia ancora sotto tutela del regime comunista di Mosca. Il suo italiano segnato da alcune parole latine se mi sbaglio mi corriggerete ha subito vinto per simpatia. È stato chiamato il nuovo Mosè il globetrotter di Dio per i suoi numerosi viaggi si è misurato con la crisi del cattolicesimo con un occidente secolarizzato sempre più come leader globale. E anche il Papa che ha messo il concilio come guida del ventesimo secolo ha compiuto gesti che sono davvero passati alla storia. La visita alla Sinagoga di Roma l'abbraccio con il rabbino Capo Toaf un viaggio di pochi chilometri per i quali sono occorsi duemila anni al Tempio Maggiore ha ribadito con forza il no del concilio all'antisemitismo. A ottobre 1986 ha voluto ad Assisi i leader di tutte le religioni insieme per pregare per la pace. Ancora a Berlino non più divisa dal muro per passare sotto la porta di Brandeburgo da ovest verso oest giugno 96 per dire che la libertà non è un lascia passare. Parole che nascondono la preoccupazione di un mondo che si allontana sempre più da valori e verità. All'inizio della Quaresima del 2000 in San Pietro vuole la giornata del perdono sette mea colpa per le violenze discriminazioni e colpi compiute dalla Chiesa nei secoli. E' il Papa che con forza chiede pace andando a Sarajevo a Beirut ancora ferite dal conflitto che dice mai più la guerra prima dell'attacco americano in Irlanda. Inventa le giornate mondiali della gioventù e il 13 maggio 81 è il giorno buio il giorno dell'attentato in Piazza San Piero. Dirà una mano ha sparato e una mano materna ha guidato il proiettile. Infine è l'uomo mistico il Papa che crede nella forza della preghiera e che tenacemente segue il Benedì Santo 2005 sono gli ultimi giorni della sua vita segue la Via Crucis dalla cappella del Palazzo Apostolico sorretto da quella croce che ha portato lungo le strade del mondo. Era stato già Papa Luciani diciamo a spostare un po' l'asse della devozione verso Maria ma certamente Voitigua anche lui diciamo è un devoto della Madonna no? È un... Qualcosa di più non dimentichiamo che il suo motto è totus tuus la sua potremmo dirla potremmo definirla così è una sorta di fede primitiva non nel senso culturale nel senso della totalità è una fede di abbandono è una fede di sicurezza io ti affido il destino della mia vita e il destino della comunità a cui faccio riferimento e infatti il Papa è convinto che sia la Madonna che ha deviato la pallottola che doveva ucciderlo e si collega direttamente alla profezia di Fatima non dimentichiamo anche qui che il giorno dell'attentato è l'anniversario della cosiddetta apparizione della Madonna ai Pastorelli che cosa fa il Papa quando va a Fatima? Compie un gesto di devozione quasi materiale prende il proiettile di Hachka sparato per ucciderlo e lo incastona con le sue mani direttamente nella corona della Madonna di Fatima con questo gesto piega la curva della profezia mariana fino a farla coincidere con la curva della propria biografia personale ponendosi come il predestinato del disegno divino perché non dimentichiamo che nel terzo segreto cosiddetto di Fatima suor Lucia dice di aver visto le fiamme dell'inferno di aver visto la guerra la scena della guerra mondiale di aver visto il totalitarismo sovietico e di aver visto il Papa vestito di bianco che saliva la collina e veniva ucciso quindi la profezia secondo Voitiva si compie integralmente ma la Madonna interviene per salvare il Papa devoto e per salvare il capo della cristianità senti c'è una contraddizione che molti vedono in in Papa Voitiva ovvero questa sua capacità di stare nel mondo proprio anche fisicamente con il corpo e quindi di dare appunto un impulso completamente diverso alla figura di un pontefice e nello stesso momento essere in realtà poi un conservatore un tradizionalista se ricordi credo fosse il primo viaggio se ci fanno vedere la fotografia di quando lui arrivò in aeroporto e c'erano i preti della teologia della liberazione inginocchiati e lui andò col dito davanti alle telecamere in mondo visione a rimproverarli perché non dovevano eccolo lì vedi non dovevano schierarsi politicamente in realtà quei preti della teologia della liberazione erano pensavano di avere un alleato e si trovarono invece un Papa che ripristinò dei confini rispetto alla loro attività pastorale ma è un Papa molto tradizionalista che aveva portato aveva su di sé tutti i segni di una chiesa repressa lui era polacco io ricordo che quando è stata restituita alla chiesa cattolica di Roma come la chiamano in Unione Sovietica la chiesa principale di Lvov di Leopoli nella Galizia ai confini con la Polonia sono andato a raccontare questa cerimonia e il vescovo era una persona che non aveva un vestito da prete l'inviato di Roma che era un vescovo un monsignore polacco si è tolto in casa di questo vescovo il vestito gliel'ha messo l'abbiamo aggiustato con degli spilli perché era troppo lungo perché lui aveva fatto il lattoniere l'autista di ambulanze e qualche altro mestiere e quando era stato arrestato per le messe dette nei boschi teneva un acino d'uva in un buco della parete a fermentare e un pezzo di mollica di pane per celebrare mentalmente la santa messa la domenica il papa era figlio di questo mondo anche se la Polonia era un po' diversa perché la presenza della spiritualità religiosa cristiana e cattolica era fortissima e permeava tutta la società però il papa era figlio di quella situazione c'è da dire che ma questo qui entriamo diciamo in un percorso diverso e anche per certi versi mai provato fino in fondo a un certo punto Vojtiwa convince Marcinkus Monsignor Marcinkus che guidava lo IOR la banca vaticana a far avere a Solidarnosc che in quel momento combatteva il regime polacco i finanziamenti necessari a continuare diciamo questa rivolta che poi porta la Polonia al collasso in qualche modo con il generale Jaroszewski che veniva convocato la notte nel vagone di Andropov al confine il quale lo minacciava di invasione ogni giorno insomma poi a un certo punto lui la politica la fa però l'ha fatta l'esercizio della sua fede religiosa è stata una battaglia politica negli anni in cui era in Polonia e quindi tutto questo ha continuato a farlo da pontefice con un'intesa inaspettata probabilmente anche per lui con il capo di una Russia che stava cambiando e da Unione Sovietica stava diventando di nuovo Russia in qualche modo poi l'ha diventata traumaticamente ma ho chiesto a Valenza a Alec Valenza due anni fa a Danzica che era il leader di Solidarnosc che era il leader di Solidarnosc e che ha nel suo ufficio alle sue spalle una gigantesca foto di Vojtiva ho chiesto che cosa ha significato Vojtiva in relazione alla battaglia per la libertà che ha combattuto Solidarnosc e anche alla caduta del comunismo lui mi ha detto semplicemente è stato decisivo non lo ha fatto cadere lui ma è stato decisivo perché il sovvertimento determinato da un suddito dell'impero sovietico che diventa capo della chiesa ci ha fatto capire che si era aperto un varco e in quel varco potevamo infilare tutte le nostre speranze e la nostra disperazione voi non potete capire mi ha detto Valenza mi ha detto tu sei sempre vissuto nella libertà non puoi capire cos'era quel muro che era a Berlino molto lontano ma ci ricordava ogni mattina che noi eravamo sudditi e lui dice quando è venuto un anno dopo la sua elezione Wojtyla in Polonia e c'era un milione di persone che pregava in ginocchiata abbiamo capito che forse si poteva cambiare la situazione il comunismo diceva Valenza sarebbe caduto lo stesso ma in che modo e a che prezzo in qualche misura si può dire che Vojtyla ha esercitato una sorta di protezione di garanzia su questo passaggio ha evitato lo spargimento di sangue si in effetti poi politica l'ha sempre fatta Vojtyla al punto che quando andò in Terra Santa a un viaggio storico fece il famoso discorso in cui disse giustizia per tutti andò al muro del pianto a chiedere perdono e poi andò però a incontrare anche Arafatti il capo dell'OLP e questo ci riporta un po' a oggi perché insomma abbiamo visto in queste ore anche poco fa la pioggia di razzi dalla striscia di Gaza verso Israele e gli attacchi israeliani contro Hamas ti faccio vedere questo contributo che riassuma un po' ieri e oggi e gli attacchi e gli attacchi immagini che purtroppo sono tremende e sono di queste ore speriamo che davvero diciamo la situazione si congeli quanto prima Papa abbiamo visto già malato già affaticato però molto determinato insomma tant'è che lui voleva anche andare in Iraq e poi ci andrà invece Francesco non gliel'avevano consentito in quel momento cioè fisicamente esprime prima con l'energia di cui parlavi questa vitalità che ricorda un po' la vitalità di Gorbaciov nei suoi primi anni eravamo abituati all'immobilismo monumentale di Cernienco no? sì la disinvoltura di Gorbaciov era certo proprio un cambiamento anche antropologico sembrava e Wojtyla anche porta questo stile completamente diverso e questo impegno anche fisico nella sua testimonianza e poi questo corpo ormai degradato che il Papa trascina con un senso del sacrificio per il dovere che deve compiere queste immagini ce lo ricordano si possono benissimo interpretare così ce lo ricordiamo l'altro elemento è quello di questa politica estera globale che il Papa sta giocando mi ricordo che negli anni in cui ero corrispondente da Mosca guardando spesso all'azione di Wojtyla come pietra d'inciampo per il potere sovietico mi sono detto che era una figura che non c'era stata in precedenza e non ci sarà più dopo perché univa due aspetti l'anti sovietismo e l'anticomunismo radicale con una cultura che potremmo definire a occidentale non aveva un punto di vista occidentale aveva un'idea dell'Europa completamente diversa che riecheggiava addirittura un paradosso alcuni elementi della casa comune europea di Gorbaciov e poi credo che sia rimasto deluso dopo la fine del muro di Berlino nel vedere che il consumismo aveva sostituito il comunismo e che della libertà ritrovata non veniva sottolineato tanto dalle masse liberate l'elemento spirituale ma l'elemento appunto del consumo dell'omologazione allo stile di vita occidentale Ezio Mauro io ti ringrazio di questo prologo utile ma necessario perché attraverso questo prologo adesso fra pochi minuti di pubblicità entriamo dentro la storia di quell'attentato che ancora contiene moltissimi misteri grazie pochissimi minuti e torniamo sono le 22 e 10 minuti e ci siamo per immergere nella ricostruzione dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto il 13 maggio di 40 anni fa ma prima vi do un paio di aggiornamenti su quello che sta succedendo in Israele dunque alle 21 e 35 c'è un'agenzia che dice che è stato colpito un palazzo da parte di Israele un palazzo di 14 piani che ospitava la struttura di intelligence di Hamas e che comunque i civili sono stati avvertiti prima che le bombe colpissero questo questo stabile poi c'è un'altra notizia che da Canale 12 una tv israeliana sostiene che Israele si appresta a colpire anche alcuni simboli del potere di Hamas nella striscia di Gaza ovvero il ministero delle finanze ad esempio e questo secondo Canale 12 lascerebbe intendere ciò che peraltro aveva già annunciato il premier israeliano Benjamin Netanyahu ieri che questo scontro questa guerra ormai possiamo dire vera e propria non sarà breve ma noi torniamo per il momento indietro al 1981 torniamo indietro di 40 anni non so se vi ricordate che cosa accadeva in Italia nei mesi che precedettero l'attentato a Giovanni Paolo II se non ve lo ricordate ve lo ricordiamo noi con questo breve filmato a Giovanni a Giovanni a Giovanni grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanti abbiamo in qualche modo visto o rivisto, la mettiamo sotto una lente di ingrandimento perché i dettagli sono ciò che spiega o può aiutare a spiegare meglio le cose per come sono davvero andate. Guardate. Per iniziare l'udienza generale. Alle 17 e 17 improvvisamente si odono gli spari. Era il secondo giro della piazza. È allora che si sono uditi gli spari e subito ho capito che era successo qualcosa di brutto e molto grave. Ricordo che i piccioni che si erano posati sulla piazza si sono spaventati per gli spari e si sono levati in volo. Allora ci siamo accorti che il papa perdeva le forze. Abbiamo capito che era ferito perché si era piegato. Io l'ho sorretto mentre si accasciava nella vettura e gli ho chiesto se sentisse dolore. E lui mi ha risposto sì, mostrandomi il punto con il dito. Il colpo gli aveva attraversato il corpo. Il proiettile è caduto esattamente fra me e lui, all'interno della papamobile. Non so dove sia finito il secondo perché non è mai stato ritrovato, ma ci sono stati due spari. La pallottola ha colpito il papa all'addome. È ancora possibile salvarlo? Con una corsa disperata viene portato in gravissime condizioni al vicino Policlinico Gemelli. All'epoca il professor Vilmarin era assistente presso il pronto soccorso dell'ospedale. L'ho saputo in maniera molto rapida perché io ero presente al Policlinico Gemelli, stavo nella mia stanza, sono venuti degli assistenti urlando hanno sparato al papa, hanno sparato al papa. Per arrivare ai 300 metri della sala operatoria, oltre al dislivello, bisogna prima riattivare gli ascensori. Perché quando io sono arrivato in cima con il fiatone, avevo paura che venisse male a me, perché ho dovuto fare nove piani in salita di corsa, ho capito che c'erano gli ascensori bloccati per evitare il caos, ma il caos era lo stesso. In piazza San Pietro viene arrestato come responsabile un giovane turco, Ali Agca. Secondo le prime indiscrezioni, è un estremista di destra ricercato in patria. Il sospettato, l'arma del delitto e le circostanze presentano fin da subito un quadro molto chiaro. In ospedale intanto, i medici lottano per salvare la vita alla vittima. Le ferite dentro il corpo sono sempre davanti agli occhi. L'intestino tenue aveva cinque perforazioni. E la perforazione finale era del colo sigmoideo, del sigma, insomma. E poi l'uscita posteriore. Per fortuna, l'uscita posteriore era spostata a sinistra rispetto alla linea mediana. Altrimenti sarebbe stato colto anche il midollo spinale. In serata migliaia si radunano in piazza San Pietro. Temono, pregano e cantano per il loro papa. Quale era l'atmosfera nel mondo? Sembrava che la terra avesse smesso di girare, perché nessuno poteva mai immaginare che potesse succedere una cosa simile proprio in piazza San Pietro. Un vero martirio. Giovanni Paolo II è già considerato il papa del secolo, il primo polacco sul soglio di Pietro. Un papa carismatico, con il dono di conquistare gli uomini. Per molti è un inviato del cielo, per altri una figura controversa. Ad ogni modo, una guida forte per la Chiesa, con una qualità quasi profetica. Ali Agcha, il killer, sembra un attentatore solitario. Un uomo apparentemente confuso. Qual è il suo movente? La sera prima dell'attentato, prende una camera all'hotel Isa, vicino piazza San Pietro. Mi ricordavo di lui, soprattutto per la nazionalità. Era un cliente turco. I clienti turchi sono molto rari e difficili che girano, quindi mi ricordavo. Era già venuto da noi due volte. Un tipo molto tranquillo, quindi quando abbiamo visto la sera le notizie in televisione, sono rimasto quasi scioccato, perché era una persona tranquillissima. Tra l'altro aveva anche pagato anticipato. Quindi un ottimo cliente, possiamo dire. Agcha è davvero un cane sciolto? Oppure è stato aiutato? Le indagini mettono in luce molte contraddizioni. Il centro di addestramento della polizia, a 100 chilometri da Roma. Qui gli esperti della balistica ricostruiscono ancora una volta lo svolgimento dei fatti. Un fatto come quello avvenuto in San Pietro è un fatto molto particolare, col quale dimostra che si tratta di una persona molto preparata, addestrata a fare quel tipo di sparo e soprattutto in una posizione molto anomala. Di solito, quando viene fatto un omicidio oppure viene attentato a qualcuno, ci si va vicino, sì a due, tre, quattro metri, però si spara in direzione del corpo, in direzione del cuore, in direzione della testa, che sono elementi che sono importantissimi per la vita dell'uomo. Quindi in questo caso invece è stato sparato al Papa in una posizione, diciamo, addominale che non avrebbe potuto creare assolutamente la morte oppure le gambe, la parte bassa del corpo che non contiene organi vitali. Gli esperti della polizia italiana esaminano nell'ordine la posizione di tiro, l'arma e la composizione dei proiettili. Ecco, una pistola semiautomatica con un bossolo che è stato trovato sulla scena del crimine in piazza e un proiettile. Quindi questi sono due elementi che formano una cartuccia che è stata sparata da questa pistola e abbiamo accertato che questa è l'arma utilizzata per il tentato omicidio del Papa. Una cosa molto particolare di questo proiettile, noi vediamo che è un proiettile camiciato, non è un proiettile in piombo, quindi è un proiettile che non uccide ma ferisce soltanto. Per cui non è stata utilizzata una pistola che uccidesse il Papa, è stata utilizzata una pistola che la ferisce soltanto. Sono risultati che possono cambiare completamente la prospettiva dell'attentato. È possibile che l'attentatore o gli attentatori volessero mandare un avvertimento? Sparando la persona, possibilmente non ucciderlo, perché ucciderlo avrebbe tolto di mezzo l'interlocutore. Loro avevano bisogno di un interlocutore morbido, di un interlocutore da limitare in qualche modo. Ecco perché lasciarlo in vita. Avccià aveva forse solo intenzione di ferire il Papa? E se sì, chi gli ha dato l'ordine di farlo? Nella vasta letteratura sull'argomento, gli esiti degli esami balistici italiani hanno ricevuto scarsa attenzione. Uno dei maggiori esperti su quei fatti è il giudice istruttore Rosario Priore. L'esperienza di lavoro in questo processo è stata molto lunga, di anni, molti anni. Però devo dire che, nonostante le delusioni dell'inchiesta, non ho mai perso l'entusiasmo e tuttora proseguirei, perché c'erano delle tracce che poi si sono perse. Molto interessante quella perizia balistica che ci dice, secondo gli esperti della polizia scientifica, che quelle pallottole non erano pallottole che avrebbero potuto davvero uccidere Voitigua, anche se poi Voitigua arrivò quasi in fin di vita in ospedale. Ma anche i colpi di pistola sono stati due o sono stati quattro? Perché ci sono molte versioni contrastanti su quello che accade al momento in cui furono esplosi i colpi e negli istanti successivamente a questo tentativo di Aqcià che poi è riuscito di colpire il Papa. Arturo Mari è stato il fotografo dei Papi per tantissimi anni. Pensate, cominciò a 16 anni con Pio XII. e ha fotografato Giovanni Paolo II per 27 anni, scattando solo a lui più di 5 milioni di immagini. Quel giorno, quel pomeriggio del 13 maggio 1981 era a pochi centimetri da lui perché stava facendo il suo lavoro. Sentite il racconto che ci fa. 13 maggio 1981 giornata normale come tutte le altre né più né meno stesso tragitto soltanto che quando siamo arrivati quel maledetto giorno all'altezza del colonnato di destra e lì è successo quello che è successo tutti sappiamo quello che è avvenuto. Io camminavo alla G tenendo la mano così per fotografare il Papa che avevo in primo piano perché ce l'avevo a 50 cm con lo sfondo della gente e arrivati all'altezza lì del colonnato tutti dicono sono stati partiti due colpi dico no i colpi sono stati quattro perché i due colpi ufficiali che hanno preso il Santo Padre è stato a Riaccia per cui il primo colpo l'ha preso sul dito e la pallotta l'ha schizzato è uscita fuori l'altra parte il colpo allora attenzione questo colpo gli entra qui attenzione cammina gira qui il colpo scende tra questa traiettoria a questa altezza riscende ancora curva va a sinistra esce e cade nella gip nello stesso momento sono state colpite due persone polacche una signora polacca americana una coppia di polacchi americani Spostinovelli che avrebbero sparato Selik dietro le spalle del Papa la gip è partita di corsa siamo diventati internamente al Vaticano e davanti al FAS dove il pronto soccorso lì hanno adeggiato il Santo Padre in terra perché non c'era niente lui stava stragiato così con le mani poggiate sul basso ventre che si teneva così lui ha detto la parola Madonna mia assiste non mi abbandonare l'autista è stato fenomenale sei minuti dall'interno del Vaticano al Gemelli e sono arrivato dieci minuti dopo del Papa che lui gestava in sala operatoria e sono rimasto lì e poi alla notte intorno erano le quattro quasi abbiamo saputo che fuori pericolo era in vita il terzo giorno dopo l'intervento io avevo parlato con il Cardinal Casaroli il segretario di Stato perché che succedeva fuori al Gemelli fotografi i cinoveratori si stavano ammazzando per che fare se vestivano da infermiere dentro per fare una fotografia al Papa come sta? stai a porta entro come mi vede ci vedi figlio mio siamo vivi la Madonna ci ha sfrubato e lì è stato il momento che mi sono usciti i calci non riuscivo più a fare fotografie perché nel berino della macchina allora che mi era andato dentro non ho visto niente come stava che si vedi vabbè sto uscito però ecco incredibile la traiettoria di quella pallottola che ricorda anche un'altra traiettoria la pallottola che uccise John Fitzgerald Kennedy a Dallas anche quella fu definita una pallottola intelligente perché aveva fatto un percorso stranissimo e però dal punto di vista di Giovanni Paolo II a consentirgli di diciamo sopravvivere a quello sparo e quindi a deviare il corso di quella pallottola sarebbe stata la Madonna di Fatima ma adesso tra un po' entriamo anche nel racconto di cosa accade subito dopo fra appena pochi minuti di pubblicità siamo sempre dentro al racconto dell'attentato a Giovanni Paolo II ma io continuo a darvi aggiornamenti sulla situazione che si sta diciamo così sviluppando tra Israele e la striscia di Gaza il presidente americano Joe Biden ha dichiarato pochi minuti fa che Israele ha il diritto di difendersi e poi in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 14 su 15 membri del Consiglio sarebbero stati favorevoli a una dichiarazione comune che insomma chiedesse ad entrambe le parti di ridurre la tensione nell'area qualcosa diciamo di molto così blando rispetto a quello che è accaduto anche oggi con lancio di razzi e bombardamenti sulla striscia di Gaza ma noi torniamo torniamo al racconto dell'attentato a Giovanni Paolo II perché ci sono anche molti dubbi pensate a 40 anni di distanza su chi davvero bloccò Ali Ak-Cha nel momento in cui cominciava a fuggire da Piazza San Pietro si è sempre detto e l'ho detto anch'io all'inizio di questa puntata che insomma la storia è che una missionaria di 30 anni la suor Letizia Giudici avrebbe visto Ak-Cha mentre scappava sarebbe saltata addosso e lo avrebbe bloccato poi Ak-Cha sarebbe stato preso dalla polizia ma qui c'è un altro testimone attore di quella scena che si chiama Ermene Gildo Santa Rossa un gendarme pontificio che per 40 anni non ha mai parlato e lo ha fatto soltanto in questi giorni per Rai News 24 e adesso per Atlantide sentite la sua versione quel 13 maggio 1981 avevo portato una copia di amici al baciamano perché facevano 25 anni di matrimonio quando è arrivata la GIP con il Papa all'angolo del colonnato e ho sentito i due spari ho visto le pallombelle come le chiamano qui a Roma alzarsi in volo proprio da lì ho gridato agli altri amici hanno sparato il Papa e quelli ma che sei matto sono corso e l'aiutante di camera Franco Ghezzi quando mi ha visto Santa Rossa e prendelo e quello che viene avanti con la pistola che ha sparato il Papa lui si faceva strada perché la folla man mano che lui avanzava la folla si apriva così perché aveva paura e io invece ne ho avuto un attimo di paura l'ho preso e cercavo di portarlo dentro il portone di bronzo per poterlo poi interrogare abbiamo preso calci pugni per poterlo salvare perché la gente voleva linciarlo e lui mi disse queste tre parole mentre lo stringevo mi ha detto non ho fatto niente per tre volte non ho fatto niente non ho fatto niente c'è la foto dell'attentato che si vede questo sono io con i capelli bianchi e questo è l'attentatore Aligarcià alla fine quando dopo averlo portato dentro sono andato a raccogliere la pistola e l'ho raccolta proprio io che lui quando è stato a un metro e mezzo dai fronti a me me l'aveva quasi tirata addosso insomma è caduta ai miei piedi quella pistola ha fatto partire soltanto due colpi ed è veramente scusate ma mi commuovo a ricordare è stato proprio il miracolo salvare Papa Giovanni Paolo II la Madonna di Fatima perché quella pistola non si inceppa mai invece il terzo colpo non è mai partito Papa Giovanni Paolo II alcuni anni dopo ci siamo incontrati abbiamo ricordato un po' e lui mi ha ringraziato e mi ha chiesto avvenimenti di quel giorno e quindi ho molti molti bei ricordi sono passati tanti anni non ho mai rilasciato interviste prima di adesso perché forse mi sono invecchiato e adesso mi è rimasto ben poco da vivere e allora voglio che anche la verità venga anche un po' fuori emozionante la testimonianza di Santa Rossa ma devo dirvi che abbiamo ricevuto anche un lungo racconto molto dettagliato da parte di un uomo che all'epoca era un giovane carabiniere si trovava in piazza San Pietro il quale sostiene di essere stato lui in realtà a placare Aliyak Jha ancora armato per poi consegnarlo a Santa Rossa tutte queste diciamo ricostruzioni queste testimonianze che arrivano anche a distanza di 40 anni possono sembrare inutili ma in realtà ci dicono una cosa che nonostante sia passato tutto questo tempo ancora i dettagli esatti di quello che è accaduto il 13 maggio 1981 non li conosciamo è mai possibile guardate il processo contro Aliyak Jha si conclude con una condanna all'ergastolo nel 2000 dopo 19 anni di detenzione Ak Jha ottiene la grazia e viene estradato in Turchia Ak Jha stesso mostra di non voler contribuire a un chiarimento della vicenda le sue dichiarazioni si contraddicono continuamente sui punti cruciali l'attentatore del Papa vuole forse proteggere i suoi mandanti Aliyak Jha sin dal primo momento ha finto quasi continuamente Ak Jha riteneva di portarci per mano in un certo senso però certe volte ci portava per mano fino a un certo punto e poi ci buttava perché chi lo seguiva poi si trovava in certi momenti privo di qualsiasi prova solida che potesse supportare la costruzione Ak Jha era era uno che recitava benissimo e quindi in un certo senso ha giocato molti inquirenti molti uomini delle polizie giudiziarie e addirittura anche l'opinione pubblica durante le sue apparizioni pubbliche Ak Jha non dà l'idea di essere un killer spietato ma piuttosto un individuo confuso si autoproclama Gesù Cristo in colpa i servizi segreti spiega la sua conversione al cristianesimo e di nuovo si professa credente nell'islam personalmente io so benissimo che Ak Jha non è pazzo non lo era finché non decise di diventarlo due anni dopo gli spari in piazza a San Pietro Giovanni Paolo II visita in carcere il suo attentatore dal punto di vista del Papa è un atto di perdono dal punto di vista dell'attentatore è forse un'ulteriore occasione per confondere le carte? La scena del pentimento è vera o recitata? in seguito Ak Jha dirà che entrambi hanno parlato della fanciulla di Fatima e del suo ruolo salvifico al momento dell'attentato non c'è alcun dubbio che il primo ad intossicare l'inchiesta e tutte le possibili piste che si sono via via sviluppate sia stato proprio Ali Ak Jha ma chi è Ali Ak Jha? Da dove viene? E chi sono i lupi grigi di cui faceva parte e di cui forse fa ancora parte? Sentiamo cosa ci racconta a questo proposito Marco Ansaldo la personalità la personalità di Mehmet Ali Ak Jha è polietrica è una personalità multiforme un presidente storico della corte di Assisi di Roma come Severino Santiapichi ne ha sempre parlato come della persona più intelligente che lui abbia mai conosciuto io ho avuto diversi colloqui in Italia e in Turchia e soprattutto un contatto epistolare nei vent'anni in cui lui è rimasto in carcere in Italia con l'attentatore devo dire che è difficile stringerlo ad una verità soltanto passandoci poi molto tempo fianco a fianco soprattutto da quando lui è libero a Istanbul ormai dopo i trent'anni anche altri dieci passati in Turchia per crimini pregressi si riesce a cogliere forse qualche pepita qualche verità che Mehmet Aliagia lascia cadere dicendo che in fondo il crimine che lui ha commesso è molto più semplice di quello che in realtà è stato compreso nel corso degli anni Agia apparteneva come sappiamo al movimento dei lupi grigi ed è significativo pensare che lui ha sempre coperto nelle 107 versioni diverse che ha dato agli inquirenti dell'attentato i suoi antichi sodali oggi il movimento dei lupi grigi è tuttora in auge in Turchia ovviamente ha cambiato nome dagli ulkuju cioè i giovani idealisti si è trasformato in movimento di azione nazionalista è un movimento politico anche molto rispettabile per certi aspetti siedono in Parlamento sono il terzo gruppo politico più importante della Turchia e se noi vogliamo capire dove va la Turchia soprattutto tante delle frasi contundenti di Erdogan nei confronti dell'Occidente nei confronti dell'Europa contro gli armeni e nella guerra con i kurdi dobbiamo risalire all'alleanza fondamentale che il presidente turco ha oggi con i lupi grigi senza lupi grigi senza questa coalizione elettorale Erdogan alle urne perderebbe da gruppo di terroristi a pilastro del regime turco di Erdogan questi sono i lupi grigi e da lì veniva Liaccia lo vedete in questa fotografia alle mie spalle davanti al presidente della corte Severino Santiapichi che fu anche il presidente della corte del primo processo per il sequestro l'uccisione di Aldo Moro e dei cinque uomini della scorta un magistrato rigorosissimo ma il punto adesso è che cominciano le piste e la prima pista che viene battuta dagli investigatori porta ad est perché ci si domanda Wojtyla era considerato un pericolo così grave per il blocco sovietico da spingere i servizi segreti dell'esta a togliergli la vita guardate che cosa ci dice questa nostra ricostruzione gli inquirenti italiani incontrano numerose difficoltà troppe teorie troppi possibili moventi ma a vista le prove raccolte sembra improbabile che un attentatore solitario in stato confusionale arrivi a tanto perché proprio io deve essersi chiesto il papa subito dopo gli spari egli stesso ha forse un'idea dei possibili mandanti non possiamo pensare che l'attentato ad un papa ad un papa così importante all'inizio della sua carriera non fosse stato il punto di arrivo di un complotto internazionale di grande rilievo il nuovo papa suscita invidie e ostilità dentro e fuori la chiesa i potenziali mandanti di Aliyak Chah possono essere stati i servizi segreti stranieri ma anche oppositori pronti a tutto all'interno della stessa curia del resto in secoli lontani l'omicidio era una pratica purtroppo frequente per risolvere le dispute interne alla chiesa era molto probabile quindi che Chah non fosse solo nella piazza ma che insieme a lui ci fossero delle altre persone a conoscenza di quello che Chah avrebbe fatto e questo diciamo che nel corso della lunga indagine che ha portato al processo nei confronti di Chah nei confronti dei suoi complici è apparso reale di uno si sa anche il nome ora il Selic che sarebbe stato fotografato mentre fugge dalla piazza la polizia interroga centinaia di testimoni oculari ed esamina tutte le foto e i filmati riprese al momento dell'attentato in piazza un'immagine indirizza i sospetti verso est mostra un uomo il caposcalo della compagnia di bandiera bulgara ma che secondo il parere degli inquirenti appartiene ai servizi segreti del suo paese si chiama Sergei Antonov l'ordine è forse partito da lui e dunque dal blocco dei paesi comunisti a quel tempo emersa quasi subito immediatamente una pista bulgara e viene fuori dalle stesse dichiarazioni di Akcha in Bulgaria ci sono stato tante volte ai giornalisti in attesa Ali Akcha grida di essere stato addestrato in Bulgaria una missione che all'epoca fa molto scalpore e che trova ancora oggi diversi sostenitori in pratica noi avevamo fatto fare un'expertise e poi dopo anche un secondo expertise di controllo per sapere esattamente chi era quell'uomo con i capelli neri gli occhiali neri i baffi neri basette neri che era accanto ad Ali Akcha mentre Ali Akcha sparava al Papa era stato detto che fosse un turista americano noi abbiamo sottoposto queste foto ad un'indagine di anatomopatologi che usano i computer per fare i loro raffronti ed è emerso per due volte molto chiaramente con una percentuale di 98-97% di credibilità quindi moltiplicata a due praticamente assolutamente identica che quell'uomo che era accanto ad Ali Akcha non era un turista americano ma era il signor Antonov formalmente capo delle aeroline bulgare in Italia ma in realtà il capo stazione del servizio segreto bulgare questo capovolgeva tutte le altre ipotesi gli spari contro Giovanni Paolo II sono dunque un'operazione bulgara ordinata da Mosca una tesi che in piena guerra fredda trova subito dei sostenitori sembra quasi ovvio dato che il Papa contrasta in modo esplicito il blocco comunista ma fino ad oggi mancano prove plausibili e le dichiarazioni di Akcha al processo fanno pensare che si sia voluto coscientemente creare una falsa pista che portasse a Mosca il processo contro il presunto mandante Antonov svela ulteriori bugie dello stesso attentatore le sue indicazioni sulla persona e sull'ambiente da cui proviene il bulgaro si rivelano false ma perché Akcha apre false piste nel processo viene alla luce il nome di un altro possibile complice Serdar Celebi il capo dei lupi grigi un movimento turco di estrema destra Celebi potrebbe essere stato l'uomo di collegamento fra Akcha e i servizi segreti bulgari l'uomo si difende ancora oggi da tale sospetto la sceneggiatura del processo prevedeva che Akcha avesse agito per ordine del Kegebe russo e Musa Serdar Celebi lo avesse aiutato nel suo viaggio attraverso l'Europa ma era solo una messa in scena nient'altro la spiegazione dell'accaduto si trova forse nella patria del colpevole in Turchia Ali Akcha orfano di padre è attirato ben presto dall'ambiente dei cosiddetti lupi grigi sotto la guida di Alparslan Turchesh negli anni 70 questo raggruppamento di estrema destra si macchia di oltre 600 omicidi soprattutto fra politici liberali e giornalisti Akcha aderisce ai lupi grigi e nel 1979 assassina il giornalista Abdi Ipecci viene arrestato e condannato al carcere ma di lì a poco riesce ad evadere probabilmente con l'aiuto di elementi della polizia o dei servizi segreti qualcuno sembra già levare la sua mano protettrice su Akcha i servizi segreti dell'Europa dell'Est potrebbero avere quantomeno un chiaro movente Giovanni Paolo II è un fiero oppositore del comunismo ateo e questa campagna sta facendo vacillare soprattutto il regime comunista nella sua patria la Polonia il potere politico è sì un potere ma non è il solo potere al mondo esiste un potere che l'uomo può chiamare potere che è il potere degli uomini il sindacato libero polacco Solidarnosc si giova di un palese sostegno da parte del Papa nella Polonia cattolica si forma così un'alleanza che diventa pericolosa per il potere comunista si mettono a punto strategie contro il Papa e la sua politica ma addirittura spingersi al punto da organizzare ed eseguire un attentato a Ovest la tesi in un complotto ordito dai comunisti viene accolta con favore la giornalista americana Claire Sterling è la prima a diffonderla anche i servizi segreti occidentali come la CIA alimentano i sospetti la tesi danneggerebbe i loro avversari al Cremlino ed è quindi più che benvenuta eppure all'interno della stessa CIA non si è effettivamente convinti della tesi di un mandato omicida venuto da Mosca o da Sofia Melvin Goodman all'epoca capo della sezione Unione Sovietica della CIA ricorda quei giorni era un anno importantissimo la CIA aveva un nuovo direttore William Casey che aveva una ideologia di estrema destra e voleva dimostrare che i sovietici fossero coinvolti col terrorismo internazionale cosa che non potevamo provare inoltre Casey voleva una dettagliata analisi sul coinvolgimento dei sovietici nel complotto per uccidere il Papa ma ancora una volta non solo non c'erano prove credibili ma avevamo ragione di credere che non solo i sovietici non c'entrassero nulla ma che avessero avvertito i bulgari che gruppi di estrema destra soprattutto fuori dalla Turchia erano coinvolti in queste trame ed era quindi consigliabile mantenere le distanze la pista bulgara venne fabbricata con l'intervento di alcuni giornali che più tardi di alcuni giornalisti che più tardi sapremo lavorare per testate legate in qualche modo alla CIA avevamo una riunione con Bill Casey dove volevamo confutare la sua posizione quando ha affermato sapete l'altro giorno tornando a casa ho comprato il libro di Claire Sterling sul terrorismo e ho imparato più cose da lei sul terrorismo sovietico che da tutti voi messi insieme quello che abbiamo cercato di fare è stato spiegare che molte delle argomentazioni di Claire Sterling nel libro che giudicavamo pessimo erano esempi di disinformazione e cattiva informazione che la CIA diffondeva in Europa per far sì che la stampa europea facesse apparire l'Unione Sovietica come responsabile infatti una cosa che la direzione generale della CIA cercava di fare a livello operativo era proprio mettere in imbarazzo i sovietici accusandoli di coinvolgimento nell'attentato al Papa ma la strategia ci sia ritorta contro la CIA insinua questa informazione nella stampa europea Claire Sterling legge la stampa europea e mette tali informazioni nel suo libro e nei suoi articoli e la notizia ritorna negli Stati Uniti e questo è uno dei rischi di avere servizi segreti che operano in democrazia non sarebbe dovuto andare così non si dovrebbe avere un ritorno della propria propaganda che entra nel dibattito politico interno ma è esattamente quello che è successo in effetti poi alla fine di queste nostre ricerche e discorsi che i bulgari fossero i mandanti gli organizzatori dell'attentato e che alle loro spalle ci fosse il KGB sovietico è una tesi che è andata scemando quasi scomparsa in un certo senso non credo che qualcuno voglia riesumarla i retroscena dell'attentato a Giovanni Paolo II vengono esaminati per anni da inquirenti giudici e giornalisti alla fine emergono tante piste contraddittorie e la verità nel frattempo resta sempre ben nascosta sotto un complesso intreccio di false ipotesi una falsa pista quella bulgara che Antonio Ferrari inviato lo speciale del Corriere della Sera fu il primo a scoprire sentite cosa ci racconta La pista bulgara è una delle più terribili e false notizie che mi è capitato di seguire personalmente nel secolo scorso negli ultimi cent'anni è una delle cose più terribili perché è un falso clamoroso quella che oggi chiamiamo una fake news il mondo occidentale dopo l'attentato al Papa voleva assolutamente che la Bulgaria comunista fosse colpevole era logico c'era la guerra fredda quindi il mondo occidentale contro la Russia i paesi satelliti fedeli alla Russia la crisi era durissima dopo l'attentato al Papa ci furono ritiri di ambasciatori clima ripeto mefitico dire che i bulgari erano innocenti sembrava un crimine non è vero i bulgari su questa storia almeno erano innocenti la cosa incredibile è che il nuncio apostolico a Sofia al quale chiedo ma ma sono stati i bulgari non mi fa no sono stati i russi no sono stati gli americani no a volte la verità è così vicina che ci sfugge Nicolai si rende conto di quello che mi sta dicendo perfettamente ma c'è ancora di più quello che Craxi chiamava Belzebù e cioè Giulio Andreotti un uomo molto vicino al Vaticano e lui un giorno aveva detto ma no perché i bulgari e poi improvvisamente mi dice ma forse ci siamo sbagliati dico bravo bravo vi siete sbagliati sì eh sì perché non abbiamo indagato forse morale aveva capito anche lui delle porcherie che accadevano in Vaticano la conferma finale l'ho avuta da Giovanni Paolo II anni dopo nel 2003 quando ha deciso di andare a Sofia anche il mio giornale molti non ricordavano neanche più della pista bulgara vabbè sono stati comunisti bulgari e io chiedo di andare a Sofia e mi dicono un po' sorprendere ma che ci vai a fare a Sofia ci va il Papa la pista bulgara oddio e il Papa arriva mi fa chiamare dal suo portavoce vado alla mattina e scopro le funzionali del partito comunista bulgaro ex erano lì indaffarate perché dovevano c'era un ordine del Papa che aveva detto al presidente bulgaro sappia che non ho mai creduto non credo e non crederò mai alla pista bulgara e voglio che venga messo nel comunicato ufficiale a volte la verità è così vicina che ci sfugge così ha detto Antonio Ferrari raccogliendo le parole del nunzio apostolico a Sofia e infatti la pista bulgara svanisce e si comincia a battere un'altra possibilità un'altra pista quella dei rapporti oscuri che intercorrevano tra lo IOR la banca del Vaticano gestita da Monsignor Marcinkus e mafia banchieri truffatori e criminalità organizzata è lì che si poteva celare la soluzione il mistero dei mandanti dell'attentato al Papa tra pochi minuti il 1981 è l'anno del crack del Banco Ambrosiano guidato da Guido Calvi il banchiere di Dio è l'anno della scoperta degli elenchi della P2 di Licio Gelli e dei rapporti oscuri che Paul Marcinkus il Monsignor Paul Marcinkus che guidava lo IOR cioè la banca del Vaticano intratteneva con la criminalità organizzata e attraverso lo IOR passavano miliardi e miliardi che venivano riciclati ed è lì che vanno a cercare gli investigatori per capire se quella sia una pista possibile per spiegare il senso dell'attentato del 13 maggio in piazza San Pietro fin dall'inizio i sospetti si allargano fino a sfiorare la curia romana per gli ecclesiastici conservatori questo dinamico Papa è una spina nel fianco intrighi e omicidi che appartengono da secoli alla prassi delle contrapposizioni all'interno della chiesa e se invece dei funzionari comunisti fossero degli alti prelati i veri mandanti dell'attentato questa pista interna vaticana direi è nata anch'essa dalle dichiarazioni di Akciah perché Akciah disse di aver avuto rapporti con dei prelati di essere stato indirizzato richiesto da prelati per un'operazione qui quindi c'è sempre una fonte la fonte è quasi sempre le dichiarazioni che Akciah fa per dare una spiegazione del suo comportamento c'è un indizio inquietante su questa pista interna Ali Akciah potrebbe avere avuto in qualche modo già prima dell'attentato contatti con lo stesso Vaticano la traccia conduce a una periferia romana durante una visita del Papa nel quartiere Tor Tretteste all'incontro sono ammessi solo ospiti selezionati eppure in una foto è chiaramente riconoscibile lo stesso Ali Akciah tra gli ospiti del Papa noi facemmo un lungo lavoro piuttosto pesante con i fotografi ufficiali del Vaticano e con le fotografie che avevano scattato la nostra polizia per vedere se appariva Akciah in alcune delle tante funzioni che ci sono nello Stato Vaticano e in effetti venne fuori una ripresa della sua immagine in occasione di una visita pastorale che il Papa fece alla chiesa di Sant'Omaso d'Aquino nella periferia di Roma chi ha reso possibile l'accesso di Akciah a quell'evento così esclusivo l'invito è servito forse alla preparazione dell'attentato c'è l'ipotesi anche di una pista interna al Vaticano che a prima vista sarebbe una cosa assolutamente incredibile da escludere che preti religiosi si mettono a sparare uno contro l'altro e ancora di più contro il capo di tutta la chiesa mondiale però l'atteggiamento del Vaticano che è rimasto sempre molto diciamo omertoso su questa vicenda fa sorgere dei dubbi torniamo indietro di qualche anno nella storia vaticana forse è lì che parte questa trama sono soprattutto due papi a scrivere la storia nel 1962 con Giovanni XXIII si impone sulla scena un papa che vuole condurre la chiesa nella modernità il concilio vaticano secondo suscita l'entusiasmo dei sostenitori ma anche una fiera opposizione poi c'è l'improvvisa morte del papa dei cento giorni Giovanni Paolo I che fa nascere sospetti mai del tutto svaniti ovvero che i conflitti all'interno del Vaticano abbiano contribuito alla sua prematura scomparsa Giovanni Paolo II sembra condividere le posizioni di coloro che propugnano il ritorno a valori tradizionali ma sono molti i cardinali che lo osteggiano soprattutto in occidente e nell'ombra si muovono i burattinai di organizzazioni come la misteriosa loggia segreta P2 o congregazioni come l'Opus Dei che cercano di favorire i propri interessi c'era una fortissima competizione all'interno del Vaticano in questo periodo fra gruppi contraposti per esempio l'Opus Dei schierato a destra a favore della nuova politica più aggressiva del papa nei confronti dell'est e dall'altro lato lo schieramento più prudente capeggiato dal cardinale Casaroli il segretario di stato che viene indicato come membro di un gruppo massonico all'interno della curia antagonista del cardinale segretario di stato Casaroli è il vescovo Marcinkus figura molto vicina al papa col quale condivide la simpatia per l'emergente sindacato libero polacco solidarnosc come presidente dello IOR Marcinkus fa in modo che alla Polonia arrivino non solo preghiere ma anche sostegno finanziario il Vaticano si ritrova quindi in prima linea nella guerra fredda e diventa un obiettivo sensibile questo movimento capeggiato dall'Ecvalenza è stato sostenuto con soldi offerti da vari paesi occidentali e dagli Stati Uniti e utilizzando i canali finanziari controllati dalla chiesa cattolica quasi sicuramente la banca vaticana l'OIOR e secondo il defunto presidente del Banco Ambrosiano anche dal Banco Ambrosiano una banca cattolica di Milano che subiva una fortissima influenza da parte della chiesa e di Marcinkus della Banca Vaticana come presidente dell'OIOR che ha tutti gli effetti la banca del Vaticano Marcinkus gestisce affari discutibili con il Banco Ambrosiano di Milano sotto la direzione di Roberto Calvi i soldi della mafia siciliana sarebbero stati girati a Solidarnosc senza che il sindacato ne sapesse nulla Calvi trama con la mafia per risanare il crescente deficit della banca tramite speculazioni ardite ma il tentativo fallisce si può dire che l'OIOR insieme al Banco Ambrosiano abbiano partecipato al riciclaggio di denaro proveniente dalla mafia si può dire precisando che questa tesi la viene sostenuta da diversi pentiti mafiosi pentiti molto credibili qualcuno in Vaticano è a conoscenza di queste turbide trame quando Calvi entra infine in conflitto con la mafia chiede aiuto al Vaticano con una lettera personale che contiene la minaccia di lasciar trapelare le equivoche transazioni finanziarie dal Vaticano non arrivano risposte pochi giorni dopo Calvi viene ritrovato impiccato sotto un ponte di Londra era forse in possesso di ulteriori prove che riguardavano non solo la mafia ma anche il ruolo del Vaticano i moventi dell'omicidio di Calvi sono innanzitutto la copertura dei segreti che stanno poi dietro questo rapporto tra Banco Ambrosiano mafia IOR e Vaticano già nei primi giorni dopo l'attentato al Papa nasce il sospetto che la vicenda di Calvi possa essere legata al tentativo di omicidio figure potenti nella curia volevano fermare l'aggressiva politica verso est del Papa è una pista suggestiva che tuttavia così come la pista bulgara resta senza prove certe allora in conclusione vorrei dire che l'idea stessa l'idea stessa di colpire un pontefice attraverso un attentato e di poterlo condizionare in questo modo era un'idea grossolana che non appartiene che non apparteneva né al mondo del Vaticano neanche devo dire al mondo italiano la valutazione finale della pista interna è che essa ha presentato delle difficoltà nel suo procedere anche perché molte delle domande a cui si doveva rispondere in effetti forse attenevano all'essenza della sovranità ho già sbagliato due o tre volte in questi anni confondendo Roberto Calvi che era presidente del Banco Ambrosiano con Guido Calvi che invece era un avvocato ed è stato uno storico parlamentare del Partito Comunista me ne scuso ma adesso siamo sempre dentro alle varie piste che si sono susseguite nella indagine sui mandanti dell'attentato a Giovanni Paolo II e insomma adesso stiamo dentro di nuovo la figura di Ali Akciak e non c'è dubbio che abbia avuto delle coperture e dei sostegni per poter attraversare l'Europa ed arrivare fino in Piazza San Pietro quel 13 maggio del 1981 considerando poi un altro aspetto che i lupi grigi che come abbiamo sentito sono oggi una delle colonne portanti del regime di Erdogan in Turchia non erano infiltrati dal KGB tutt'altro guardate di Erdogan oltre alla ricerca di complici bulgari o interni al Vaticano c'è un'altra possibile pista che finora, almeno pubblicamente, è stata poco percorsa una traccia che ci porta nel cuore di oscure attività dell'Occidente nella fase finale della guerra fredda il punto di partenza è la foto di un complice che quel giorno sembra darsi alla fuga subito dopo gli spari in piazza San Pietro l'uomo si chiama Oral Celic e verrà in seguito processato a Roma durante il dibattimento emerge chiaramente che Celic, come Accia appartiene agli estremisti di destra, i lupi grigi inoltre mantiene i collegamenti con i servizi segreti occidentali in tribunale viene difeso dall'avvocato italiano Michele Gentiloni durante tutto il periodo del processo Oral Celic mi ha sempre continuato a riferire che la sua vicenda si doveva inserire in un quadro di servizi di informazione europei e anche turchi diceva che la sua vicenda era una vicenda costruita era una vicenda complessa in cui i servizi avevano una importanza fondamentale quindi non diceva mai di essere una persona solitaria che era organizzato da solo o con qualcun altro ma diceva che lui operava nel quadro di una vicenda legata ai servizi di informazione lo ripeteva continuamente tramite Oral Celic la pista ci riporta di nuovo in Turchia un paese che a causa della sua collocazione geopolitica durante la guerra fredda gioca un ruolo fondamentale soprattutto per gli strateghi della Nato la situazione geopolitica della Turchia è sempre stata estremamente importante e quindi di conseguenza il suo ruolo era decisivo per la sicurezza dell'intero occidente questo è un dato storicamente provato e innegabile e la Turchia durante la guerra fredda aveva una posizione strategica nell'est perché era l'unico membro della Nato che confinava direttamente con l'Unione Sovietica quindi tutti gli altri paesi della Nato per poter dormire a sonni tranquilli dovevano poter contare in ogni momento sulla lealtà della Turchia per la Nato è in gioco la sicurezza del fianco sud orientale e i militari sono considerati gli interlocutori più affidabili in un paese allora instabile come la Turchia si cercava di arginare la crescita dei partiti di sinistra e sotto questo aspetto gli anni 78-79 e quelli successivi sono stati molto difficili in quel periodo è aumentata la violenza perché la violenza era organizzata ai massimi livelli e intendo che si trattava di crimini organizzati ai massimi livelli il caos era diffuso nella società e il fine era sconvolgere la vita stessa della società il colpo di stato militare del 1980 provoca numerosi morti e violazioni dei diritti umani già allora alcuni osservatori sollevano il sospetto che il golpe avvenga con l'approvazione della Nato e degli Stati Uniti e nel mezzo di una situazione poco chiara ritroviamo i lupi grigi con Oral Celik e Aliak Cha Chi l'ha voluto? Una simile domanda non va neanche posta Lo stesso giorno del golpe la CIA e gli Stati Uniti hanno annunciato che la Turchia era stata spinta attraverso la guerra civile fino a un colpo di stato militare e la giunta militare aveva quindi preso il potere Io posso dire e questo è un mio parere personale che i lupi grigi erano nazionalisti per la Turchia ma anche razzisti Se si fosse manifestata una minaccia comunista nel paese dovevano costituire un fronte di resistenza per opporsi I lupi grigi hanno rapporti con i servizi segreti occidentali forniscono quindi degli specialisti per missioni particolarmente delicate? Aliak Cha e gli altri appartenenti ai lupi grigi avevano rapporti con i servizi europei Sicuramente hanno fatto dei servizi ai servizi hanno fatto dei servizi che le autorità ufficiali di uno stato europeo non possono permettersi Nel 1979 Aliak Cha spara e uccide il giornalista turco Abdi Ipekci L'omicidio sembra organizzato dai lupi grigi ma nessuno vuole assumersi la responsabilità di tale azione E' stato ucciso un giornalista di sinistra Abdi Ipekci e la propaganda ha concluso che l'esecutore fosse uno dei nostri un tizio di nome Aliak Cha che fino ad allora era un perfetto sconosciuto per noi quindi era tutto assurdo non apparteneva all'organizzazione e non era al servizio di nessuno L'omicidio di Ipekci suscita l'attenzione di ambienti collegati ai suoi avversari Abdi Ipekci Aqcha finisce in prigione ma riesce a evadere quasi subito Chiaramente può contare su un valido aiuto dall'esterno A quel tempo mi ero già dimesso da ministro Un giornalista venne da me e mi disse Aqcha è evaso e io no, lo hanno fatto uscire Un detenuto non fugge così facilmente dalle nostre prigioni ha bisogno di aiuto dall'interno o dall'esterno vuol dire che qualcuno dentro o fuori dal carcere o tra il personale carcerario deve averlo favorito nella fuga Aliak Cha passava sotto gli occhi di tutti passava alle frontiere come niente fosse e lui non è stato mai fermato Chi c'è dietro questa evasione? Settori delle autorità turche? I lupi grigi? Oppure i servizi segreti di una potenza straniera? Eccoci a un punto cruciale Dopo avere bruciato tre o quattro piste gli investigatori arrivano addirittura a sospettare che dietro l'attentato a Giovanni Paolo II ci siano proprio dei servizi segreti occidentali addirittura la struttura di Gladio e questo è un momento di svolta l'ipotesi è che l'Occidente abbia alzato diciamo messo in moto Aliak Cha e gli abbia manovrato la mano per tentare di uccidere il Papa in modo da colpire Mosca guardate questa altra ipotesi Nei paesi della Nato in Turchia, Germania, Francia, Stati Uniti c'erano persone che operavano all'interno di reti clandestine chiamate stay behind che erano una sorta di eserciti segreti così come i lupi grigi e queste persone agivano praticamente indisturbate non venivano mai catturate né interrogate avevano come un'immunità diplomatica sebbene agissero per lo più come torturatori o assassini ed è qualcosa che abbiamo visto succedere anche con Aliak Cha l'attentatore del Papa il quale aveva piena libertà d'azione e non è mai stato interrogato né arrestato Nei mesi successivi all'evasione Aliak Cha gira mezza Europa chi lo abbia aiutato e perché è una delle domande chiave nella ricerca dei mandanti dell'attentato al Papa oltre ai lupi grigi e ai servizi segreti dell'est si sospetta il coinvolgimento anche dell'organizzazione Gladio Gladio è una sorta di esercito segreto della Nato che nell'eventualità di un'invasione sovietica in Occidente dovrebbe organizzare la resistenza ma Gladio sviluppa una sua pericolosa autonomia intervenendo negli anni 70 nella politica interna dei paesi occidentali soprattutto in Italia e in Turchia i combattenti di Gladio compaiono ogni volta che si tratta di evitare la formazione di governi di sinistra nei paesi della Nato anche usando il terrore il terrorismo è lo strumento per far vivere la popolazione nella paura e nell'incertezza quello che abbiamo scoperto è che durante la guerra fredda nella maggior parte dei casi sono i servizi segreti a commettere attentati terroristici per gettare la popolazione nel terrore per mettere in cattiva luce un avversario politico o per estendere un sistema di sorveglianza che era ancora piuttosto primitivo bisogna capire che i servizi segreti cercano continuamente di pilotare la democrazia e per così dire spingere le persone come pecore da una parte all'altra e a tale scopo si sfrutta il fenomeno del terrorismo volevo dire che il terrorismo internazionale è uno strumento del regno cioè i governanti di un determinato paese affondano le loro mani a piene mettono a piene mani nel terrorismo e fanno di tutto per governarlo è dimostrato che i lupi grigi avevano contatti con i servizi segreti turchi ed è dimostrato che questi servizi segreti avevano contatti con la CIA possiamo quindi affermare che i lupi grigi erano legati a Washington in modo diretto e indiretto il coinvolgimento dei potenti servizi segreti occidentali potrebbe quantomeno spiegare l'enigma su come Ali Akcha si sia mosso liberamente in Europa nonostante un mandato di cattura internazionale ma se i servizi segreti abbiano effettivamente impartito l'ordine dell'attentato o se abbiano solo lasciato Akcha libero di agire è ancora oggi un argomento dibattuto il sistema che si nascondeva dietro Mehmet Ali Akcha era stato inizialmente accostato ad un gruppo di idealisti o meglio di estremisti di destra ma poi si è scoperto che tale organizzazione era in poche parole il corrispettivo o la versione turca della cosiddetta organizzazione Gladio una rete clandestina che era nata in Italia ed era stata poi imitata in Turchia da gruppi estremisti in seguito si è scoperto che questo stesso gruppo era attivo anche in Europa si trattava di giovani uomini che venivano usati da Gladio come sicari e molti provenivano da un'organizzazione giovanile della destra turca ma allo stesso modo bisogna dire che anche nelle stesse file della sinistra all'epoca c'erano molti uomini pronti a compiere azioni analoge se analizziamo il quadro da un punto di vista storico dobbiamo valutare il coinvolgimento di certi ambienti quindi la Nato la CIA o i servizi segreti turchi potrebbero effettivamente avere armato questi individui dopo l'attentato Giovanni Paolo II diventa una delle figure più autorevoli del nostro tempo gioca un ruolo decisivo nella caduta del comunismo e nella battaglia contro il male rappresentato dal materialismo globale se l'attentato doveva interrompere il cammino del Papa nel mondo allora Aliyak Chah e i suoi presunti mandanti hanno fallito l'unica cosa perfettamente riuscita è stata nascondere fino ad oggi i loro moventi gli spari del 13 maggio 1981 restano uno dei più grandi enigmi irrisolti del ventesimo secolo Nel mondo dell'intelligence quasi mai le cose sono come sembrano e la verità è sempre diversa o quantomeno più completa di quanto non venga raccontato la cattiva informazione è informazione falsa e la disinformazione è un'informazione concepita come falsa notizia che deve diffondersi e influenzare l'opinione pubblica beh nel processo per l'attentato al papa non siamo arrivati a una conclusione nel senso che resta tutto ancora nel vago ancora non si è capace di dire una parola finale col tempo io credo che la verità possa venire fuori però la verità storica ci mette molto tempo col tempo una verità potrebbe venire fuori l'auspicio del giudice Rosario Priore che ha indagato per moltissimi anni sull'attentato a Giovanni Paolo II col tempo la verità non è venuta fuori neanche nel caso di Emanuela Orlandi scomparsa nel 1983 un caso che ha toccato lo stesso Giovanni Paolo II che come dicevo prima più volte si è speso per cercare di trovare il modo di far tornare a casa Emanuela ma questo non è mai accaduto e ne parliamo tra poco qui in studio con Pietro Orlandi il fratello di Emanuela e l'avvocatessa Laura Sgro che difende la famiglia tra pochi minuti di pubblicità 40 anni dopo l'attentato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro nulla si sa sui mandanti di quella di quell'azione e come una cortina c'è come una cortina impenetrabile che nasconde questo segreto contro la quale hanno sbattuto tutti gli investigatori nell'arco di questi decenni naturalmente quella quell'atto compiuto da Liaccia ha modificato nel corso del tempo anche il modo di proteggere la sicurezza dei papi nonostante il loro carattere imprevedibile e come ce lo spiega Luigi Carnevale che è l'attuale responsabile dell'ispettorato presso il Vaticano della Polizia di Stato quel tragico attentato ha rappresentato uno spartiacque nell'attuazione dei servizi di sicurezza in piazza San Pietro e anche a tutela dei pontefici sono stati introdotti sistemi di sicurezza tecnologicamente avanzate ma è stato anche incrementato il personale con figure altamente professionali si è provveduto ovviamente a delimitare il raggio di azione dei possibili attentatori con un sistema integrato che vede come cabina di regia la questura di Roma la partecipazione anche dalle altre forze di polizia in stretta collaborazione ovviamente con i colleghi della gendarmeria vaticana ma non dobbiamo dimenticare che questo è un luogo sacro il luogo frequentato da fedeli da persone che vengono a pregare e quindi c'è bisogno di coniugare questa esigenza di sicurezza con l'esigenza dell'accoglienza per cui il nostro personale è chiamato a operare con massimo rigore ma con il sorriso sempre sulle labbra la lunga storia del papato di Giovanni Paolo II non è stata segnata soltanto da quell'attentato ma anche da un altro caso il risolto che lo ha toccato da vicino la scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta il 22 giugno del 1983 e ne parliamo adesso e poi vedremo la ricostruzione di quello che è successo con Pietro Orlandi il fratello Emanuela buonasera Pietro grazie di essere qui prego e con Laura Sgro che è l'avvocatessa della famiglia Orlandi buonasera avvocatessa Sgro buonasera Pietro sono passati 38 anni noi siamo sempre qui diciamo a sostenere la vostra richiesta di verità e anche di giustizia ma come come ti senti dopo 38 anni senza diciamo qualcosa di concreto a cui aggrapparti malissimo specialmente perché sono passati 38 anni e dopo 38 anni continuo a vedere intorno a me troppa troppa ipocrisia troppa vigliaccheria troppe persone che si nascondono che sanno quello che è successo ma continuano con il loro atteggiamento che io definisco mertoso tu hai detto io finché non ho come dire non vedo anche i resti di Emanuela per me continua ad essere viva per me è un dovere continuare a cercarla viva finché non non ne ho la prova concreta finché non trovo i resti se ci sono certo vogatessa vogatessa sgrò alcuni mesi fa c'era stato diciamo un evento che tutti speravano che potesse portare a una svolta nella storia della scomparsa di Emanuela cioè l'apertura di un paio di tombe nel cimitero teotonico all'interno della città del Vaticano come sono andate le cose? infatti sono stati pressoché surreali che le tombe come lei sa sono risultate essere vuote l'ufficio del promotore ci ha condotto posso aggiungere avvocatessa vuote e molto pulite eccessivamente pulite ha perfettamente ragione dottor Purgatori l'ufficio del promotore dopo l'apertura delle tombe ci ha portato in un momento in cui noi eravamo presenti presso un ulteriore luogo che era all'interno del collegio teotonico dove c'era un ossario sono stati fatti dei rinvenimenti sull'ossario del teotonico c'è stato un confronto tra i nostri periti e i periti del Vaticano sono stati selezionati alcuni campioni ossei e il Vaticano molto velocemente sulla base di una merendagine di riatura strettamente visiva ha catalogato questi resti come antichi o molto antichi quindi l'occhio bionico mi permetto di dire dei periti vaticani ha bollato come vecchissimi questi questi reperti e invece peraltro prego e invece peraltro no voglio aggiungere che ulteriori approfondimenti sono stati delegati alla famiglia Orlandi a carico anche economico della famiglia Orlandi Pietro e la sua famiglia si sono fatti carico anche per correttezza e per completenza di indagini di fare ulteriori approfondimenti su questi reperti ossei che comunque non sono risultati così tanto antichi come era stato paventato dall'occhio dei periti vaticani per cui è venuto fuori che ci sono stati dei reperti successivi al 1900 questo è stata un'analisi fatta dall'Università del Salento il dottor Portera che è il nostro consulente genetista ha fatto ulteriori approfondimenti e ha rinvenuto peraltro dei campioni femminili successivi alla datazione del 1950 quindi è chiaro che non c'è Emanuela in quei reperti ma non è neanche vero che le analisi andavano fatte così come è stato dato sono state date indicazioni dall'ufficio del promedio di giustizia dello Stato della città del Vaticano francamente tutto ci è sembrato assolutamente fuori da ogni logica peraltro vorrei anche aggiungere che noi avevamo chiesto l'apertura di due tombe per l'appunto risultate pulitissime e non di andare ad analizzare un ossario intero peraltro a carico della famiglia Orlandi Sì Pietro quel giorno tu eri emozionatissimo ci siamo parlati nel pomeriggio mi ricordo che eri molto diciamo avevo paura di trovare Emanuela da dentro questo lo capisco perfettamente però nello stesso tempo diciamo quella così concessione che era stata fatta dal Vaticano sembrava l'inizio di una apertura di una svolta anche nei rapporti diciamo tra voi che chiedevate e loro che fino a quel momento si erano sempre trincerati dietro un silenzio un non rispondere no è stata una grande sceneggiata secondo me prima perché loro sapevano perfettamente che quelle tombe erano vuote non potevano non saperlo e la cosa importante più che le due tombe è la stanza che è stata trovata sotto quelle due tombe cioè noi abbiamo una delle tombe è stata aperta c'erano solo materiali dell'ottocento terriccio non c'era niente hanno scavato gli operai hanno fatto un buco hanno visto che sotto c'era una stanza sono entrati era una stanza in cemento armato tre metri per tre metri alta lo stesso due tre metri in cemento armato quindi materiali molto più recenti e il dubbio era come si entrava perché non c'erano porte non c'erano finestre invece di fronte alla famosa tomba dell'angelo per terra c'era una lastra di marbo con quattro pioli bastava sollevare i quattro pioli e si accede a quella stanza di sotto scusa a proposito della tomba dell'angelo che era l'indicazione questa indicazione vi era arrivata non in forma anonima vi era arrivata diciamo da qualcuno che si era qualcuna persona all'interno del Vaticano che si era comunque con voi palesato per questo io volevo che si aprisse un'inchiesta interna prima di arrivare ad aprire perché avrei voluto verbalizzare avrei detto chi erano queste persone avrei voluto che ascoltassero queste persone e perché ci volevano portare su quella tomba invece il Vaticano ha voluto fare questa uscita mediatica enorme apriamo due tombe per dimostrare che facevano qualcosa tanto probabilmente sapevano che all'interno di quelle tombe non c'era niente l'attenzione mediatica mondiale devo dire mondiale in quel momento era soprattutto su quella stanza vuota loro hanno spostato in un attimo l'attenzione su due ossari quindi l'attenzione si è spostata su quei due ossari hanno tirato fuori 20 sacchi di ossa e analizzati in un giorno e mezzo e poi con il bollettino della sala stampa hanno detto che erano ossa vecchie quindi per loro è finita lì invece quella stanza là sotto è importante all'avvocato quando ha richiesto le carte dei lavori fatti non gli hanno voluto dare niente io adesso chiedo proprio all'avvocatessa Sgro ma quando vi sono arrivate queste indicazioni non anonime che parlavano della tomba dell'angelo cioè l'angelo è una statua diciamo che sta sopra queste tombe vi siete fatti una domanda sul perché qualcuno in modo palese a voi naturalmente aveva dato questo suggerimento questa indicazione come mai diciamo c'era una persona e come mai questa persona avrebbe potuto sapere qualcosa su quella tomba e sulla possibilità che dentro ci fossero i resti di Emanuela guardi le persone sono più d'una io ovviamente sono tenuta al segreto sì ma non le sto chiedendo nome e cognome infatti no 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 ma infatti quello che volevo dirle è che appunto per questo visto che queste persone hanno parlato con me hanno anche parlato con Pietro eravamo di concerto con l'ex comandante della gendarmeria vaticana di sentire Pietro perché Pietro non è tenuto i vincoli cui sono tenuta io e quindi dopo una serie di interlocuzioni con l'ufficio della gendarmeria all'improvviso l'interlocuzione è cessata quindi non hanno più voluto sentire Pietro che aveva tanto da raccontare e hanno deciso di aprire comunque le tombe quello che penso io è che evidentemente l'indicazione su quelle tombe è che è un ulteriore richiamo alle responsabilità comunque del Vaticano nella sparizione di Emanuela e anche di un'eventuale morte di Emanuela cioè io non me lo spiego in nessun'altra maniera certo questo questo altro che avresti voluto raccontare lo puoi raccontare anche qui? no io avrei fatto i nomi di queste di queste persone avrei voluto fare un'indagine su queste persone e capire perché posso chiedere le hai incontrate tu queste persone? persone che conosco e come ti cioè che senzio? persone laiche e prelati prelati monsignori quindi ed erano tutte coincidenti su quella tomba sì che dicevano che indicavano quella tomba c'era anche una persona anche se poi giornali ne hanno portato in maniera diversa che portava addirittura i fiori su quella tomba perché gli era stato detto che lì ci potevano essere i resti di Emanuela però quella cioè ci sono tante di quelle cose quando io dico che in questo periodo dopo tanti anni uno è demoralizzato perché davanti si è chiusa l'inchiesta nel 2015 è ovvio che le indagini le facciamo per conto nostro quindi cerchiamo di contattare le persone e nonostante tiriamo fuori indizi importanti io vedo che c'è l'assoluta mancanza di volontà a fare qualcosa perché quando io ne ho parlato te lo dico perché ne ho parlato anche pubblicamente anche quando ho fatto la manifestazione quando ci sono due persone molto vicine a Papa Francesco che usano dei telefoni riservati della Santa Sede e io ho uno scambio di messaggi su Whatsapp tra queste due persone di qualche anno fa che parlano con te o tra loro tra loro che parlano di documenti di Emanuela bisogna fare quei documenti non bisogna dirlo a Gianni perché è una cosa grave Gianni è l'ex responsabile vuol dire che quando noi chiedevamo i documenti e loro ci dicono non c'è nulla non è vero e quando l'avvocato manda un'istanza al segretario di Stato al tribunale dire guardate che noi abbiamo in mano questo scambio di messaggi uno che ti aspetti che il segretario di Stato il tribunale ti chiama e ti dice verbalizziamo chi sono queste persone perché dicono queste cose invece assolutamente niente c'è il silenzio più totale e quella è la cosa che ti fa dispiacere veramente posso chiedere avvocatessa adesso che cosa avete intenzione di fare noi intanto insisteremo perché vengano sentite queste persone o quantomeno vengano analizzati questi scambi che ci sono stati recapitati noi ovviamente non abbiamo il potere che ha la magistratura di sequestrare telefoni quindi per verificare l'attendibilità o meno di questi scambi noi insistiamo non abbiamo nessuna intenzione di demordere rispetto a questa vicenda vogliamo vederci chiaro soprattutto perché si tratta di scambi che danno per scontato l'esistenza di conoscenze di informazioni all'interno della Santa Sede e quindi anche di persone che hanno anche ruoli apicali nell'ambito del Vaticano quindi non si può fare silenzio rispetto a queste cose noi non abbiamo il potere di fare una certa tipologia di indagine loro si ce l'hanno e quindi non capisco perché non la vogliono fare Pietro io ti devo fare un'ultima domanda e cioè che è quella che poi ti faccio ogni volta cioè tu a questo punto della diciamo di questa vicenda 38 anni dopo hai qualche certezza in più rispetto a quello che può essere accaduto? Io penso di sì cioè? Cioè sono legate alle cose che ti ho detto anche adesso perché sono più sono diverse cose e io aspetto che loro mi chiamino perché loro devono chiamare perché non possono restare così in silenzio io ho approfittato anche di questo momento per ricordare questo fatto perché io spero che loro mi chiamino per dire per farmi verbalizzare per ascoltare queste persone perché è uno scambio di messaggi importante che fa capire molte cose fa capire che ci sono cardinali con nomi di cardinali che sono a conoscenza che c'è Papa Francesco che ha conoscenza di quello che stanno facendo che hanno fatto stiamo parlando di situazioni accadute 4-5 anni fa sei sicuro? intanto io devo salutare l'avvocatessa Sgro perché il collegamento adesso cade ma sto continuando con te ma tu sei sicuro che Papa Francesco sia informato dettagliatamente di tutto quello che succede? Da quello che emerge da questi scambio di messaggi parlano tranquillamente Papa Francesco ha detto al cardinale di spingere su questa cosa su una serie di cose quindi loro ne sono a conoscenza la cosa che mi stupisce è che nonostante io l'abbia detto pubblicamente anche in questa occasione che loro non hanno la volontà perché voglio dire un segretario di Stato un promotore di giustizia in Vaticano ascoltando queste cose che dovrebbe fare? convocarmi e dire perché dici queste cose? Che documenti hai in mano? Che scambio di messaggi hai in mano? E tu saresti pronto a dare tutto quello che c'hai? Io per questo non dico proprio quello che c'era scritto là sopra sono cose importanti e loro devono convocarmi ma questo succede dalla parte della Santa Sede ma anche dalla parte italiana perché quando ti dicevo prima trovi degli indizi quante volte si è parlato della questione Santa Pollinare della questione dei soldi dei pedis Santa Pollinare io devo ricapitolare Santa Pollinare è sia il luogo dal cui è scomparsa Manuela vicino a Piazza Navola dietro a Piazza Navola che il luogo dove poi si è trovata la tomba di Renato De Pedis che apparentemente in qualche modo in questa storia c'entra per esempio loro hanno sempre negato e hanno continuato a negare la conoscenza tra De Pedis e il cardinal Poletti il vicario io ho visto io una foto di De Pedis col cardinal Poletti che brindavano De Pedis che versa champagne nella coppa del cardinal Poletti in un appartamento a Piazza Navola e ricordiamo che De Pedis era diciamo l'ultimo grande capo della banda della Mariana sicuramente quando è stata scattata quella foto non era uno sconosciuto De Pedis il fatto che ho incontrato delle persone che c'erano all'epoca che poi sono andate via si sono completamente allontanate dall'Italia che mi hanno confermato perché sono persone attendibili che De Pedis frequentava la scuola di musica di Emanuela prima della scomparsa perché era un amico di Suor Dolores e spesso stava lì a scuola certamente non è finito per caso lì dentro diciamo la tomba spesso è stato visto uscire dall'ufficio di Scalfaro che due mesi dopo è diventato ministro degli interni perché Scalfaro era amico di Suor Dolores e stavano stiamo entrando stiamo entrando in una zona dove nel senso che io prendo la responsabilità di quello che dico Scalfaro che era amico intimo quando io parlo del sistema stato chiese e criminalità all'interno di quella basilica c'era Scalfaro amico intimo di Poletti entrambi erano amici di Fergari che è stato indagato per concorso in sequestro il responsabile di Santa Polinare e tutti e due erano amici di De Petis questo io sono situazioni che mi aspetto io siccome l'ho detto più di una volta pubblicamente mi aspetto anche da parte della procura che mi chiamano perché dici queste cose? però la procura archiviò all'epoca il procuratore capo era Pignatone e cosa è successo Pignatone? è stato nominato responsabile Presidente del Tribunale Vaticano va bene queste sono sono diciamo questo vi dice sempre un po' di rabbia da parte mia perché sono passati tantissimi anni e ti rendi conto che se fai tanti sforzi poi alla fine non vieni aiutato da chi dovrebbe aiutarti veramente perché io ricordo Emanuele è sempre una cittadina vaticana e ancora iscritta all'anacarafe vaticana perché io non ho mai fatto con gli altri familiari non abbiamo mai fatto la dichiarazione di morte presunta quindi Emanuele Orlandi è una cittadina vaticana viva iscritta all'anacarafe vaticana l'unica cittadina vaticana che sia stata mai rapita è assurdo che lo Stato Vaticano non abbia mai voluto aprire un'inchiesta per capire cosa è successo bene Pietro io ti ringrazio come vedi noi non diciamo non molliamo la presa su questa vicenda e stiamo diciamo vi stiamo dietro per sostenervi anche dopo 38 anni sulla nella ricerca della verità e adesso vediamo vediamo la ricostruzione della scomparsa di Emanuele con all'interno un sacco di dubbi intrecci e misteri che purtroppo permangono grazie Pietro grazie a voi Roma piazza del Campidoglio la fotografia di una ragazza di 15 anni viene esposta sulla facciata Emanuela Orlandi è scomparsa da quasi 30 anni centinaia di manifestanti vogliono sapere la verità il caso Orlandi è un giallo che tormenta l'Italia dal 1983 mafia servizi segreti e terrorismo internazionale più che un fatto di cronaca è quasi un affare di stato non conosco il movente non conosco i responsabili del sequestro di Emanuela ma conosco il sistema che per tanti anni ha occultato la verità sulla storia di Emanuela secondo i manifestanti la chiave del mistero si nasconderebbe in Vaticano per questo si radunano in piazza San Pietro per ottenere l'attenzione del Papa ma dal balcone il Papa non dirà una sola parola sul caso Orlandi grazie Emanuela Orlandi viveva qui nella città del Vaticano nel suo appartamento di via Sant'Egidio la sua stanza è rimasta quella del giorno della scomparsa Emanuela adorava la musica voleva farne il suo mestiere diventare famosa sua madre Maria abita ancora qui Emanuela era una bambina felice allegra spensierata lei era brava gli piaceva la musica voleva bene un mondo di bene a tutti si faceva voler bene Emanuela era affettuosa aveva tante amichette Emanuela è la terza di cinque figli suo padre Ercole che lavora alla prefettura vaticana si occupa degli inviti alle udienze papali gli Orlandi sono una delle quattro famiglie laiche che abitano presso la Santa Sede e sono cittadini del Vaticano Pietro il fratello maggiore di Emanuela ricorda quell'infanzia molto particolare i giardini vaticani erano come i giardini di casa per noi bambini era una cosa era un parco giochi abbiamo visto un'infanzia molto molto serena eravamo una famiglia modesta comunque perché anche se stavamo in Vaticano vivevamo dello stipendio di mio padre il Vaticano è un piccolo paese ci si conosce tutti anche il rapporto con queste persone il papa per noi bambini era era quasi per me era un signore anziano vestito di bianco quando ero per gli orlandi tutto cambia il 22 giugno 1983 quel giorno Emanuela va a scuola poi nel pomeriggio andrà al conservatorio per le sue lezioni di flauto all'epoca Emanuela ha 15 anni e mi ha chiesto un'altra volta se l'accompagnavo io quel giorno avevo un appuntamento e ho detto non posso lei insisteva io non posso e c'è stata non mi ricordo una discussione si è girata è uscita sbattuta la porta e si è andata e in quel momento di la verità non avevo mai pensato di non rivederla ad oggi per 29 anni questa è la ricostruzione delle ore che precedono la sua scomparsa sono le 15 e 30 Emanuela esce di casa oltrepassa i cancelli della città del Vaticano ora cammina per Roma in pochi minuti raggiunge la fermata dell'autobus quattro fermate dopo arriva a destinazione il conservatorio alle ore 16 la ragazza entra in classe e partecipa alla lezione di flauto alle 18 e 50 Emanuela lascia la lezione con 10 minuti d'anticipo qui avviene un fatto che attirerà l'attenzione degli inquirenti telefona i suoi genitori da una cabina ma non li trova in casa alla sorella racconta di aver conosciuto un uomo andando al conservatorio le ha proposto di distribuire volantini che riguardano dei prodotti di bellezza un lavoro ben pagato dice sua sorella le consiglia di tornare subito a casa ore 19 e 30 Emanuela accompagna un'amica del conservatorio alla fermata dell'autobus si separano da quel momento nessuno ha più rivisto Emanuela Orlando a casa di sole da una certa ora stavamo sempre a casa Emanuela avrebbe dato un segnale una telefonata da una cabina telefonica più passava il tempo più ci rendeva conto che era successo qualcosa si è fatta sera e la ragazza è sparita la famiglia inizia le ricerche Pietro prende lo scooter e la va a cercare per le strade di Roma ripete più volte il percorso tra la strada e il conservatorio in vano di Emanuela non c'è traccia tutta la nottata in piedi tutti i parenti vennero tutti a casa la notizia si è sparsa proprio in un attimo il dolore è stato più grande è veramente più grande di così non c'è altro Pietro e suo padre denunciano immediatamente la scomparsa di Emanuela alla polizia comincia un'attesa angosciante il 25 giugno tre giorni dopo la scomparsa finalmente la famiglia riceve una chiamata uno sconosciuto di nome Pierluigi afferma di aver visto Emanuela vendere gioielli in un mercato ci raccontava dei particolari di questa ragazza che corrispondeva ad Emanuela quello faceva il fatto che usava gli occhiali che la sorella si doveva sposare tutta una serie di particolari evidenti che ci devono per forza far ricondurre lei il telefono degli Orlandi viene quindi messo sotto controllo tre giorni dopo arriva un'altra chiamata al telefono ci hanno sconosciuto di nome Mario conferma la tesi della fuga della ragazza aggiungeva altri dettagli a quanto aveva detto Pierluigi questa ragazza avrebbe detto che sua sorella che avrebbe suonato il flauto al matrimonio della sorella che si sarebbe sposata in autunno e che era andata via di casa perché faceva una vita piatta non voleva la sera del 30 giugno Pietro e i suoi amici tappezzano Roma con 3000 manifesti raffiguranti il volto di Emanuela per gli investigatori le piste percorribili sono due la fuga o il rapimento 11 giorni dopo la scomparsa Giovanni Paolo II in persona parla del caso domenica 3 luglio al momento dell'Angelus il tradizionale discorso della domenica mattina a sorpresa il Papa parla del caso Orlandi desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso sposta il tiro dalla scomparsa volontaria parla di responsabilità di qualcuno di qualcuno esterno cioè è il Papa è Carol Voitiva che dice dal balcone di San Pietro Emanuele Orlandi è stato rapido ancora oggi non si sa perché lo abbia fatto è stata una cosa positiva per noi il fatto che se ne interessasse il Papa noi con famiglia vaticana abbiamo sempre visto il Vaticano quindi il riferimento potrebbe essere il Papa a dimostrazione che questa scomparsa non è considerata come un normale fatto di cronaca due agenti dei servizi segreti italiani si presentano a casa Orlandi sempre dentro casa questi servizi segreti per dire se arrivava qualche notizia se arrivava qualcosa di importante in fondo per noi rappresentavano in qualche modo la giustizia e le autorità le persone alle quali facevamo riferimento servizi segreti coinvolgimento personale del Papa la scomparsa di Emanuela diventa un affare di Stato il 5 luglio due giorni dopo l'Angelus del Papa a casa Orlandi arriva un'altra telefonata stavolta stavolta è un uomo con un forte accento anglosassone quest'uomo verrà soprannominato l'americano dai magistrati che si occupano del caso questa è la registrazione della prima chiamata dell'americano alla famiglia Orlandi l'uomo afferma di aver già contattato il Vaticano per avanzare la sua richiesta la sua richiesta funzionare funzionare del Vaticano non mancheranno di mettersi in contatto con lei si ma la bambina sta bene mi dica almeno non preoccupi io non potrei avantiare non avere autorizzazione al a sparlare la bambina e il un momento ok l'americano in sostanza sostiene di essere in possesso di Emanuela fa riferimento a Pierluigi e Mario quindi ai due ragazzi alle due persone che hanno telefonato il caso Orlandi sono stato contento mi ricordo anche quando ha telefonato l'americano uscivamo un po' da quel vuoto ma c'era una richiesta effettiva quindi Emanuela era stata rapida quindi c'era possibilità ancora che che potesse tornare a casa e chiede uno scambio chiede la liberazione di Ali Aghcha in cambio della liberazione di Emanuela Alì Aghcha è l'uomo che ha tentato di assassinare Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 un terrorista turco membro di un gruppo di estrema destra chiamato Lupi Grigi al momento del rapimento di Emanuela sta scontando da due anni la sua condanna all'ergastolo in un carcere italiano l'americano chiede la sua liberazione entro 15 giorni e per poter negoziare pretende l'attivazione di una linea telefonica diretta con il Vaticano il nome in codice di questa linea speciale è 158 in Vaticano la rivendicazione dell'americano preoccupa le alte sfere le riunioni si moltiplicano e gli uffici della segreteria di stato della Santa Sede rimangono illuminati fino a tardi la situazione politica è estremamente tesa siamo in piena guerra fredda e il Papa Polacco lotta con tutte le sue forze contro il comunismo ed è un punto fondamentale della vicenda dell'Orlandi siamo nel momento in cui la Santa Sede appunto sta è circondata di è un epicentro di opposti servizi segreti che soffiano sulle difficoltà in tenere del Vaticano proclamata all'epoca il Vaticano è effettivamente un terreno di scontro dei servizi segreti di tutto il mondo KGB CIA e la Stasi della Germania Est l'americano telefona alla famiglia Orlandi una quindicina di volte e in ognuna fornisce elementi che dovrebbero dimostrare che Emanuela è viva ascolti bene abbiamo pochi momenti questa essere della sua figuola si ma me la faccia sentire bene ok ok metto adesso metto scuola convita nazionale Vittorio un'amore di Rani scuola convita la voce è quella di Emanuela e il convitto nazionale la sua scuola ma resta impossibile datare la registrazione a ogni contatto l'americano concede altri indizi la fotocopia del tesserino scolastico una lettera scritta probabilmente da Emanuela e anche le fotocopie degli spartiti che aveva con sé al momento della scomparsa ma queste tracce non dimostrano che la ragazza sia viva anche i magistrati inquirenti le giudicano poco convincenti e rifiutano il negoziato se si vuole portare avanti una seria trattativa voglio che rilasciate lì a già per prima cosa ti devo dare le dimostrazioni che sono in grado di rilasciare la ragazza per rilasciarla deve essere viva questa prova non è stata mai inviata non sarebbe stato affatto difficile inviare una foto della Orlandi corredata del solito quotidiano con la data nulla di tutto ciò è stato fatto l'individuo misterioso chiama sempre da una cabina telefonica che gli inquirenti hanno identificato nelle vicinanze della stazione i poliziotti decidono di tendergli una trappola prima della scadenza dell'ultimato durante una chiamata agli Orlandi circondano la cabina telefonica ma ecco la sorpresa non c'è nessuno 20 luglio scade l'ultimato Ali Aghachah non viene liberato l'americano non si farà più sentire al suo posto subentra un'altra organizzazione totalmente sconosciuta il fronte liberazione turco-anticristiano turkesh anche il turkesh reclama la liberazione di Aghachah e manda comunicati all'avvocato della famiglia e ai media sa che all'età di 13 anni e mezzo Emanuela ha avuto una crisi nervosa e che ha 6 nei sulla schiena questo complica ulteriormente le cose agli investigatori turkesh che parla nei vari comunicati fa più volte riferimento ai nostri elementi Pierluigi e Mario senza nessun collegamento sono in possesso di documenti che comprovano un contatto con Manuel Erlandi l'organizzazione come indica il nome sembra legata al terrorismo turco gli inquirenti decidono quindi di interrogare Ali Aghachah ma al suo arrivo in tribunale l'uomo nega qualsiasi implicazione nel rapimento della ragazza condivide il dolore della famiglia Orlandi per ben 8 volte parla di Emanuela nel suo discorso domenicano la vigilia di Natale sei mesi dopo la scomparsa della ragazza Giovanni Paolo II fa visita agli Orlandi mi ricordo portò un cesto grandissimo per le feste di Natale di avere coraggio coraggio vedrà che qualcosa verrà fuori si è commosso si io ho delle fotografie che piango io e piange pure lui perché mi abbraccia forte poi dopo dice questo è un intrigo internazionale mi disse che questa frase sta a fianco a mio padre esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale poi ha fatto come per allargare il braccio quello di Emanuela è un caso di terrorismo internazionale stiamo facendo qualcosa cioè ha dato quella sensazione però la sensazione forte che ho avuto è che lui sapesse di più di quello che ci sta dicendo due giorni dopo la visita agli Orlandi Giovanni Paolo II si reca in prigione per incontrare Ali Agchan hanno parlato di Emanuela la conversazione non è mai stata resa pubblica fine dicembre 83 la ragazza è scomparsa da sei mesi l'americano e il fronte turkesh non danno più segni di vita ma tutti pensano che Emanuela sia stata rapita per far liberare Ali Agchan eppure 14 anni dopo si scoprirà che questa pista internazionale è una gigantesca manipolazione la verità su questa pista arriva dalla Germania dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 i servizi segreti della Germania Est la Stasi aprono i loro archivi e confessano di aver avuto un ruolo nel caso Orlandi l'uomo che svela i misteri è Gunther Bonsack un colonnello della Stasi in via del tutto eccezionale ha accettato di essere intervistato all'epoca Gunther Bonsack dirige l'ufficio disinformazione una delle principali missioni di cui si occupa è il nome in codice di operazione Papa iniziata subito dopo l'attentato fallito a Giovanni Paolo II all'epoca si sospetta che i paesi comunisti con la Bulgaria in testa abbiano commissionato l'attentato l'unione sovietica chiede alla Stasi la migliore rete di spionaggio del blocco dell'est di creare un diversivo Emanuela Orlandi era scomparsa era un grosso caso che ebbe una risonanza enorme in Italia noi approfittammo della concomitanza con il caso Aksha spargemmo la voce che erano state le stesse organizzazioni a rapire la ragazza la Stasi inventa il famoso fronte liberazione turco anticristiano turquesce e confeziona comunicati falsi su Emanuela per orientare i sospetti verso i nazionalisti turchi i nostri agenti erano dappertutto alcuni erano addirittura giornalisti inventavano continuamente nuovi indizi abbiamo visto la ragazza non è morta è ancora viva i nostri agenti alimentavano continuamente il caso soffiando sul fuoco non avevamo la minima idea di dove fosse ma quel caso ci fu molto utile lo scopo dell'operazione papa era stato raggiunto perché ci credeva il papa stesso operazione riuscita la Stasi scaggiona i bulgari nel corso degli anni i giudici si convincono che una parte delle risposte che cercano sulla scomparsa di Emanuela si trovi ancora in Vaticano la sede della Chiesa Cattolica è uno stato indipendente e ha firmato un accordo di collaborazione con la giustizia italiana tre anni dopo la scomparsa di Emanuela un giudice invia una prima rogatoria allo stato pontificio per chiedere aiuto risposta della segreteria di stato nei seguenti termini 1 nessuna inchiesta giudiziaria è stata esperita dalla magistratura vaticana trattandosi di fatti avvenuti fuori del territorio dello stato secondo le notizie relative al caso occasionalmente pervenute agli uffici della santa sede sono state trasmesse a suo tempo al pubblico ministero un inciso da parte mia io ho letto gli atti mi saranno sfuggite ma io di queste notizie non ho trovato traccia nelle carte processuali loro hanno sempre negato e continuano a farlo di aver mai indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlando sembra impossibile anche perché poi ci sono dei segnali che emergono nella direzione opposta all'inizio degli anni 90 gli investigatori si interessano a Raul Bonarelli che all'epoca della scomparsa di Emanuela ricopriva l'incarico di vice capo della vigilanza vaticana è sospettato di essere collegato a un altro caso di sequestro i suoi telefoni vengono messi sotto controllo il 13 ottobre 1993 viene convocato dai giudici alla vigilia dell'interrogatorio viene intercettata una sua chiamata tra lui e il suo capo al Vaticano non è stato possibile recuperare le registrazioni ma il fratello di Emanuela e il giornalista Fiore De Rienzo vi hanno avuto accesso in questa intercettazione questo funzionario della gendarmeria Raul Bonarelli dice domani devo andare in magistratura che devo dire e il capo gli dice che devi dire le cose che sai della Orlandi non devi dire niente soprattutto non dire che la questione è andata in segretà del Stato che c'è stata un'indagine interna non esiste un dossier su Emanuele Orlandi capito? noi non abbiamo mai indagato su Emanuele Orlandi ah devo dire così? sì devi dire così tranquillo e Bonarelli così ha detto al magistrato questo però ovviamente letta e ascoltata si capisce benissimo che non doveva parlare delle dossier che esiste la cosa mi ha colpito perché subito dopo gli dà la cittadinanza la riera come per qualche modo per proteggerlo quindi paradossalmente per interrogarlo servirebbe una locatoria internazionale adesso all'epoca Bonarelli viene accusato di aver intralciato le indagini ma in mancanza di prove viene scagionato il Vaticano si rifiuta di collaborare i magistrati ne hanno la conferma quando ascoltano le intercettazioni telefoniche della linea 158 la famosa linea speciale aperta su richiesta dell'americano per negoziare la liberazione di Aliag Cha ecco le registrazioni com'è? 158 cos'è questo numero? il segretario il segretario il segretario il segretario il segretario un momento l'americano chiama e l'operatrice cerca dappertutto il segretario di stato vaticano ma non lo trova la ricerca dura tre lunghi minuti pronto? il cardinale per favore subito ok a questo numero su questo ok va bene vengo subito pronto ecco eminencia quando finalmente il segretario di stato giunge all'apparecchio si sente la sua voce e dice pronto e qui si interrompe la registrazione fornita dalle autorità vaticane è stata aperta una linea riservata ci sono state conversazioni e poi il tenore di queste conversazioni quali erano le richieste dei sequestratori cosa volevano cosa avete risposto non se ne sa nulla io almeno non ho saputo nulla gli investigatori si scontrano contro un muro di silenzio noi riteniamo che se avesse o volesse dare degli elementi contribuire a dare degli elementi per la ricerca della vita l'avrebbe fatto l'avrebbe potuto fare o lo potrebbe fare non riesco assolutamente a comprendere il riservo tenuto nei confronti degli investigatori italiani questo mi è rimasto sempre inspiegabile dopo la sua visita agli Orlandi nel dicembre 1983 Giovanni Paolo II non ha mai più parlato pubblicamente del caso in Vaticano il dossier è diventato tabù dopo diversi mesi di insistenza si riesce a ottenere un'intervista con la Santa Sede padre Lombardi il portavoce del Vaticano ha accettato di rispondere ma a condizione di conoscere le domande in anticipo l'incontro avviene nella sede di Radio Vaticana la prima domanda è diretta perché è questa reticenza nei confronti della giustizia italiana il Vaticano ha da parte delle sue autorità delle sue istituzioni la convenzione e anche documentata in larga parte di avere dato la collaborazione che era stata richiesta come spiega l'intercettazione telefonica che chiama in causa Raul Bonarelli il responsabile della sicurezza sulla questione di Raul Bonarelli hanno fatto anche i loro confronti è stato presciolto completamente se si vede che non c'è niente di solido non si può continuare a lavorare su dei dubbi che si manifestano privi di consistenza reale se no viviamo tutti di fantasie e di creazioni di ipotesi fantastiche allora che si insista tanto per dire di questo caso che non è stato risolto che dipende da una non collaborazione vaticana mi sembra che possa essere anche un po' diciamo una scusa nel 1997 Emanuela è ormai scomparsa da 14 anni e i magistrati devono pronunciarsi sulle diverse piste che hanno seguito la sentenza del 19 dicembre esclude definitivamente qualsiasi legame tra Liagcia ed Emanuela Orlandi in assenza di nuovi elementi l'inchiesta giudiziaria viene sospesa il caso di Emanuela resta un mistero e appare irrisolvibile sono stati anni e anni di indagine tantissime piste seguite interrotte poi eravamo devo dire la verità proprio quasi soli come famiglia nel senso che c'era l'attenzione dal punto di vista dei media però le richieste che facevamo le facciamo come famiglia nel luglio 2005 un colpo di scena riapre le indagini una telefonata anonima arriva alla trasmissione chi l'ha visto si tratta dell'unico programma televisivo che parla ancora regolarmente di Emanuela riguardo al fatto di Emanuela Orlandi per trovare la soluzione del caso andate a vedere che è sepolto nella gritta della Basilica di Santa Polinare e per favore che Renatino fece al Cardinal Polizio all'epoca questa enigmatica telefonata all'effetto di una bomba Renatino è Enrico De Pedis il boss mafioso che controllava Roma ucciso durante un regolamento di Conti nel 1990 il mafioso è stato sepolto per quanto possa sembrare incredibile nella cripta di una chiesa la Basilica di Santa Polinare nel cuore di Roma e coincidenza inquietante la chiesa si trova proprio accanto al conservatorio in cui Emanuela è stata vista per l'ultima volta le indagini sono affidate a due nuovi magistrati Simona Maisto e Giancarlo Capal è un unico complesso in cui c'è la basilica e il conservatorio ci siamo interrogati se era proprio un caso che il De Pedis fosse sepolto in questa basilica il De Pedis indicato come autore scomparsa di Emanuele Orlandi che è partita da questa basilica per il suo viaggio verso il mondo per i magistrati si apre una nuova pista il rapimento di Emanuela può essere legato a un ricatto della mafia nei confronti del Vaticano Enrico De Pedis era la mente della banda della Magliana negli anni 80 l'organizzazione mafiosa controlla le attività criminali a Roma omicidi sequestri riciclaggio di denaro sporco ed è anche specializzata in scommesse clandestine e traffico di droga abbiamo ritrovato un fedele braccio destro di Enrico De Pedis Antonio Mancini oggi è un pentito e si è rifatto una vita lontano da Roma ma ha vissuto a stretto contatto con il mafioso De Pedis per 10 anni Enrico De Pedis era uno dei miei più cari amici con lui ho fatto delle rapine con lui ho fatto degli omicidi io a De Pedis ho salvato almeno una volta la vita noi eravamo banditi e quindi facevamo la vita da banditi cocaina donne champagne lui invece guardava avanti lui voleva essere un imprenditore lui era quello che teneva i contatti diciamo con i magistrati gli avvocati i politici De Pedis era un criminale atipico legato all'estrema destra cattolico praticante fino alla sua morte nel 1990 ha beneficiato di protezione dai livelli più alti se De Pedis non veniva ucciso sicuramente era in Parlamento tant'è che lui è stato morto incensurato è stato imputato con me ha ucciso la gente con me ha rapinato con me come mai niente non c'è nessuna traccia dei suoi precedenti lui ha diciamo che ha dei contatti dimostrati dei contatti dimostrati sia con i servizi segreti italiani sia con con il Vaticano con l'esmerito di Vaticano De Pedis ha legami con il Vaticano ma come può essere implicato nel mistero Orlandi è ancora una volta Fiore Berienzo giornalista di chi l'ha visto a far progredire l'inchiesta nel 2008 ottiene la prima intervista con Mancini l'ex braccio destro di De Pedis l'uomo è da poco un pentito il giornalista gli fa ascoltare la registrazione di una delle telefonate ricevute dagli Orlandi sei giorni dopo la scomparsa della ragazza la chiamata di Mario avevo portato con me una cassetta con la registrazione della telefonata di Mario mi senti per favore ti dice niente questa voce lui mette le cuffie comincia a sentire e poi fa è la Magliana dico come è la Magliana Mario è un esponente della Magliana dice guarda questo può essere soltanto possono essere solo due persone o è Furetto o è Ciletto Furetto era il killer personale di De Pedis e Ciletto era il suo motociclista Ciletto il motociclista e altri due uomini della banda della Magliana sono stati incriminati per sequestro di persone e lo sono ancora oggi sinceramente a me chi l'ha presa chi non l'ha presa io non c'era non posso dirlo sicuramente De Pedis c'era con chi io non lo so dopo le rivelazioni di Antonio Mancini nel 2008 Sabrina Minardi l'ex amante di De Pedis si presenta davanti ai magistrati anche lei accusa il capo della banda della Magliana sarebbe stato lui a rapire Emanuela davanti alla sua scuola di musica ed è sempre lui che le avrebbe proposto di distribuire volantini di prodotti di bellezza in cambio di parecchio denaro è l'uomo di cui Emanuela ha parlato a sua sorella al telefono dopo la lezione di flauto Sabrina Minardi afferma di aver partecipato lei stessa al rapimento ecco una parte della sua dichiarazione agli investigatori il signor De Pedis con cui in quel tempo avevo una relazione mi disse di accompagnarla dove sta il benzinaio del Vaticano disse che ci sarebbe stata una macchina targata a città del Vaticano ad aspettare questa ragazza io l'accompagnai secondo me era Emanuela Orlanti era frastornata confusa si sentiva che non stava bene piangeva rideva comunque io quando l'accompagnai vidi un signore che aveva tutta l'aria di essere un sacerdote scese dalla Mercedes nera prese la ragazza e salì in macchina sua Sabrina Minardi ha dichiarato tante cose ha reso un racconto molto circostanziato di quello che secondo lei è successo di come è avvenuto il rapimento di che cosa è avvenuto e di dove sarebbe stata custodita Emanuela per un certo periodo Sabrina Minardi fornisce l'indirizzo di un immobile situato in un quartiere di Roma parla di una grotta e di corridoi sotterranei che ospitano una stanza e un bagno gli investigatori effettuano un sopralluogo non ci sono tracce di Emanuela ma il luogo esiste davvero Sabrina Minardi secondo me ci ha portato sulla pista giusta perché dice questo? appunto perché i riscontri che abbiamo trovato sono molto convincenti e sono effettivamente il primo dato concreto che in tanti anni è emerso per quale motivo De Pedis avrebbe rapito Emanuela? la risposta potrebbe trovarsi presso lo IOR la banca vaticana negli anni 80 De Pedis vi deposita i proventi dei suoi traffici si trattava di una somma ingente la santa sede svolge un vero e proprio riciclaggio inoltre oggi sappiamo che la mafia ha depositato più di 600 milioni di euro al banco ambrosiano all'epoca il banco ambrosiano è controllato dall'arcivescovo Paul Casimir Marsinkus presidente dello IOR e capo delle finanze vaticane Marsinkus è in affari con De Pedis Sabrina Minardi lo conferma ecco che cosa dichiara i magistrati ricordo che Renato portava sempre delle grosse borse piene di soldi a casa sa le borse di Huiton quelle con la cerniera sopra mi dava tanta di quella cocaina io contavo soldi facevo tutti i mazzetti mi ricordo che una volta contò un miliardo e il giorno dopo lo portammo a Marsinkus il sistema esplode nell'agosto 1982 il banco ambrosiano fallisce non può restituire i soldi alla mafia alcuni investigatori pensano che per risolvere il problema la mafia si sarebbe rivolta al boss di Roma Enrico De Pedis rapire una cerniera vaticana era il modo più chiaro per far capire che quei soldi li volevano indietro la pista dei soldi della mafia Pietro il fratello di Emanuela oggi la considera la più credibile i rapitori chiedevano pubblicamente lo scambio con la Riaccia però noi seguiamo due linee una pubblica e una privata quella pubblica era sicuramente lo scambio con la Riaccia ma questo secondo me serviva per alzare l'attenzione al massimo su questa vicenda e poi erano riusciti ad ottenere una linea diretta con la segreteria di Stato e lì c'era il vero ricatto lo soldi della mafia è probabilmente la mafia che fa parte di questo sistema ad un certo punto poteva aver chiesto indietro e questi soldi non c'erano più se questa ipotesi fosse vera spiegherebbe il silenzio ostinato del Vaticano e il perché le prove non siano mai state trasmesse alla giustizia come per esempio le registrazioni della famosa linea 158 ma il procuratore Capaldo nutre molti dubbi è il seguito della vicenda dell'Orlandi che non si lega con questa pista non ci sono state a conoscenza degli investigatori dei ricatti precise se è avvenuto è qualcosa che ha tagliato fuori la famiglia o ha tagliato fuori gli inquirenti italiani nel maggio 2012 un altro episodio rocambolesco tiene l'Italia col fiato sospeso i magistrati ordinano l'apertura della tomba di De Pedis nella basilica di Santa Pollinare per verificare che non vi si trovi il corpo di Emanuela ma è di nuovo una falsa pista bisognava togliere questo dubbio e sono contento che il magistratura di Vaticano si siano messi d'accordo per fare questa ispezione riuscirà ad emergere la verità su questo incredibile fatto di cronaca dietro la scomparsa di un adolescente di 15 anni si nascondono tutti i fantasmi italiani i legami torbidi tra mafia e politica la corruzione i segreti inconfessabili del Vaticano alla fine di questa inchiesta si riesce a parlare con un vescovo vicino a Papa Giovanni Paolo II ammette che alcune risposte sul caso Orlando si trovano qui la registrazione è avvenuta sua in salute certamente c'è chi sa ma ma la verità sta in mano a chi ha più potere di non ve ne nasconderla quindi certamente questo è indiscutibile che almeno oggi almeno tre persone in Vaticano sanno e io in che modo posso trovare le tre persone c'è una chiesa che si chiama la chiesa di Cristo e c'è una chiesa che si chiama un organo politico questa è la realtà se anche io dicessi la verità o potessi tantamente saperla e dirla sarebbe chi mi discuterete prima o eliminandomi o poi danno il tronone di pazzo una lunga ricostruzione dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1981 in piazza San Pietro con diversi particolari inediti con delle testimonianze inedite e anche con delle suggestioni che però non hanno portato gli investigatori a trovare i mandanti coloro i quali avevano armato la mano di Ali Akciak che in questo momento è tranquillamente libero nel suo paese la Turchia e poi il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi nel giugno del 1983 anche quello un evento che segnò il pontificato di Giovanni Paolo II che più volte si spese per lei chiedendo la sua liberazione chiedendo che potesse tornare a casa e abbiamo ascoltato il fratello di Emanuela e l'avvocatessa Sgro che difende la famiglia Orlandi noi ogni anno cerchiamo di ritornare su questo caso perché è giusto che suo fratello le sue sorelle la famiglia intera riescano ad avere la verità non una verità di comodo e naturalmente anche giustizia noi con Atlantide ci vediamo mercoledì prossimo a Grazie per la visione!